Ora si registrerà la conferenza. Grazie. Come dicevo ieri, i colleghi della regione Piemonte, Anna Valsagna, Riccardo Garassi, René Venturello, che sono tre colleghi con i quali lavoriamo costantemente da molti anni rispetto al monitoraggio ambientale delle misure del PSR, avevano un intervento previsto per ieri, però impegni legati di fatto al lavoro sulla programmazione rurale e via attivati lontani. Comunque, invece questa mattina abbiamo Riccardo Garassi collegato dal grattacielo della regione Piemonte e direi che se lui è pronto potremmo dargli la parola per l'intervento di apertura di questa seconda giornata. Eccolo lì. Ciao Riccardo. Buongiorno a tutti, mi sentite bene? Tutto bene. Benissimo. Allora, posso iniziare? Io mi presento, sono Riccardo Garassi, lavoro nel settore programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale della direzione agricoltura e cibo. Innanzitutto ringrazio Ipla per l'invito, con i quali... Riccardo non si sente più. È data via la voce, Ricc. Riccardo? No, 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 non ci sento. Non ci sento, non ci sento. Non ci sento, ma... Non ci sento. Ah, che sento. No, è vicinale. Ah, è successo. E anche la programmazione 1422, anche perché questo è un periodo dove c'è una sovrappolizione tra le due programmazioni. vi porto ovviamente i saluti sia del nostro assessore Marco Protopapa, che non so se è già intervenuto ieri per un saluto istituzionale, del nostro direttore Paolo Balocco, che è il direttore dell'agricoltore cibo, nonché autorità di gestione, e del dirigente Anna Maria Valsagna del settore programmazione e coordinamento. Allora, io con questo breve intervento vorrei solo presentarvi e fare un rapido inquadramento di come il monitoraggio ambientale è stato svolto con riferimento alla programmazione 1422, che ha coinvolto IBLA, in quanto è stato il partner scelto per le attività proprio di monitoraggio ambientale. Ora, se siete d'accordo, io inizio a condividere lo schermo, ditemi poi se vedete. A posto? A posto? Benissimo. Allora, la cornice di riferimento qual è stata? Abbiamo detto, stiamo parlando della programmazione 1422, programma di sviluppo corale di Regione Piemonte, che è stato sottoposto ad un'attività di monitoraggio ambientale che si inquadrava come componente interna del piano di valutazione generale. Ora, chi effettua la valutazione del monitoraggio? Per quanto riguarda la valutazione, è stato scelto come valutatore indipendente Ires, che è l'istituto di ricerche economiche e sociali per il Piemonte, e come abbiamo detto precedentemente, IBLA è stata scelta come partner per il monitoraggio ambientale. metodologicamente come si è arrivati a effettuare l'attività di monitoraggio ambientale? C'era una VAS, una valutazione strategica con il relativo rapporto ambientale, dal quale emergevano alcuni aspetti, che sono stati integrati con il documento di valutabilità redatto da Ires. Così è nato lo schema per il monitoraggio ambientale del PSR 1421. Questo meccanismo ha consentito poi di fare cosa? Di rispondere ai quesiti del questionario comune di monitoraggio e valutazione riguardo alle tematiche ambientali. questionario che individuava alcuni quesiti valutativi, chiaramente non solo sulla componente suolo, ma anche sulle altre matrici, e i quesiti normalmente che cosa dicono? Come il programma di sviluppo influisce e ha influito sulle componenti ambientali. Specificamente, riguardo alla componente pedologica, il tema era il mantenimento e il miglioramento della qualità del suolo. Ora qui ci sono tre aspetti che sono stati considerati. Il primo, la protezione dall'inquinamento, che in agricoltura fondamentalmente, ma chiaramente non in maniera esaustiva, significa riduzione degli agrofarmaci. La conservazione e l'incremento della sostanza organica, con il miglioramento della fertilità e della struttura fisica del suolo. e infine il contrasto della perdita periodica. Ora, mentre i primi aspetti, protezione dell'inquinamento e la conservazione e incremento della sostanza organica, sono stati affrontati in delle focus area che non sono specifiche per il suolo, quindi la prima, la focus area 4b, riguardo alla qualità dell'acqua, e la seconda, la focus area 5e, sulla conservazione e sul sequestro del carbonio, invece c'è una focus area specifica, che era la focus area 4c, che riguardava la qualità del suolo. Ed è di questa che vi presenterò due slide. Il quesito specifico era, in che misura gli interventi hanno contribuito alla prevenzione dell'erosione dei suoli e ad una migliore gestione degli stessi. Beh, per affrontare il quesito, l'approccio è stato quello di individuare all'interno del programma di sviluppo rurale alcune operazioni che avevano sia un impatto diretto quindi le operazioni, quelle che vedete, programmate in via primaria e altre che potevano avere un contributo secondario. Inoltre, vi è da dire che alcune di queste operazioni hanno un carattere trasversale a più focus area e quindi anche al soddisfacimento dei relativi fabbisogni. parlo fondamentalmente di attività quali la formazione, l'attività dimostrativa, la consulenza e anche quella che vedete per ultimo, la 16.1.1 che è la costituzione dei gruppi operati interi. Ora, quali sono state le azioni per rispondere al quesito? Allora, innanzitutto il valutatore aveva individuato degli indicatori che sono questi che vedete indicatori che sono stati diciamo popolati con un'elaborazione quali quantitativa dei dati emersi sulle domande trasmesse sulle rate operazioni ammesse e tra parentesi metto e liquidate perché la programmazione è ancora in corso e di conseguenza non tutto è ancora concluso anche con specifico riferimento magari alle misure agroambientali che hanno impedi pluriannali quali sono questi indicatori? gli indicatori sono gli ho elencati ma giusto per avere un'idea una percentuale di superficie agricola coperta dal sostegno ricadente in area a rischio elevato di erosione reale del suolo il secondo riguardo le aree ricadenti in area basso contenuta di sostanza organico nel suolo gli ultimi 4 riguardano sostanza organica del suolo con specifico riferimento ai seminativi l'erosione del suolo per azione dell'acqua la perdita potenziale di suolo per l'erosione e il consumo del suolo oltre a questi diciamo rilievi più analitici Ipla come è intervenuta? beh innanzitutto Ipla ha la carta dei suoli a livello regionale che copre l'intero territorio in scala 1 250.000 da cui è stata derivata la carta dell'erosione reale del suolo mancavano ancora alcuni approfondimenti in scala 50.000 soprattutto per la parte collinare sono stati implementati diciamo alcuni territori, alcune aree territoriali che erano un po' scoperte da questa scala così facendo si è riuscito a definire una scala di maggior dettaglio rispetto alla carta di inquadramento regionale altra carta derivata è quella relativa alla sostanza organica del suolo è stato effettuato un aggiornamento di questa carta del carbonio dei suoli della regione Piemonte che comprende sia l'uso forestale diciamo da Tipla con l'uso agricolo dato da AGEA nazionale metodologia sviluppata diciamo di concerto con il Consiglio Nazionale delle Ricerche oltre a questi aspetti beh diciamo generalmente il monitoraggio degli effetti di alcune operazioni quindi non tanto in termini analitici ma diciamo più in termini generici di era poi ancora da parte della rete rurale per la PAC post 2020 un indicatore di contesto l'indicatore I13 che riguardava la riduzione dell'eresione del suolo e qui c'è tutta una messa a disposizione di informazioni per verificare quanto richiesto a livello nazionale e infine un contributo per l'analisi di contesto e SWOT sempre per la PAC post 2020 ora qui siamo ancora in una fase come abbiamo detto prima di programmazione in corso anche se andiamo verso la fine quindi i risultati non sono ancora da definirsi definitivi però possiamo già dire che cosa che sicuramente c'è stato un grado di coerenza abbastanza elevato tra i risultati che erano stati effettuati con l'analisi SWOT diciamo che è servita poi per la programmazione 1422 con la definizione di fabbisogni e l'attivazione delle operazioni che sono state individuate allora la maggior parte delle operazioni programmate in via primaria ha sicuramente effetti positivi anche sulle altre componenti ambientali come c'era da aspettarsi quindi in termini di biodiversità e miglioramento della qualità dell'acqua e sequestro del carbonio ovviamente con una conseguente riduzione delle emissioni di cibo qui c'è ancora un dato così aggiornato al 2022 però giusto per dare un riferimento quantitativo abbiamo che poco meno del 9% per le operazioni che hanno contributi in via primaria poco meno del 9% della SAU risulta oggetto di impegno per conservazioni e incremento di sostanza organica e contrasto dell'erosione di suole considerando anche le operazioni avendo effetti secondari questa percentuale sale al 16,6% le operazioni forestali hanno il loro effetto positivo ovviamente si tratta ancora di superfici un po' limitate per produrre modificazioni rilevanti però bisogna considerare anche la componente forestale e non solo quella agricola per quanto riguarda le operazioni trasversali che vi ho detto prima quindi la formazione l'informazione la costituzione dei gruppi operativi essendo ancora in corso non sono valutabili in termini di quali quantitativi ma sicuramente una prima analisi in termini di numero di progettualità e di corsi sia come numero sia come ore di formazione un'analisi su questi aspetti si sta già facendo e contiamo di arrivare poi a una definizione del loro contributo a fine programmazione io avrei finito la mia presentazione che è stata breve ma portate un attimo che tolgo la condivisione grazie grazie Riccardo anche perché so che non è stato banale riuscire a infilare l'intervento tra gli impegni che avete in regione lo sottolino non perché Riccardo è collegato ma abbiamo la fortuna di avere in regione un riferimento che sa benissimo di cosa parliamo perché ha fatto il pedologo anche in campagna quindi sa di cosa di cosa stiamo parlando molto bene direi che intanto ti ringraziamo ovviamente se vuoi essere collegato benvenuto se vuoi apprendirci qualcosa pure sì ti ringrazio Igor di questa conclusione sì io rimango ancora collegato per qualche minuto poi dovrò assentarmi se però avete quei punti potete sicuramente portarvi all'attenzione dei colleghi di Ipla e poi con le quali mi interfaccerò per un eventuale scontro grazie dell'attenzione e vi auguro una buona prosecuzione di lavori grazie mille saluti ai colleghi ciao 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 grazie bene a questo punto rientriamo nel programma della mattinata di giovedì senza perder tempo perché siamo un po' in ritardo e passiamo a Lorenzo Davino ricercatore del CREA monitoraggio della qualità biologica del suolo e il titolo dell'intervento ciao Lorenzo prego per scorrere a inizio allora buongiorno a tutte per scorrere e io sono Lorenzo Davino ricercatore in sede a Fivenze e ho inserito fuori programma diciamo il nome di Carlo Iacomini in questa presentazione che è un amico un collega con cui collaboro dell'ISPRA che è stato ma non so perché credo che questa collaborazione sia importante anche perché abbiamo diversi progetti che riguardano anche il QDS con le competizioni con la America la vita tra l'altro che è montese sulla rigenerazione dei suoli di colpa ma andiamo avanti a parte da parlare molto che sapete tutti che c'è un suolo di salute può fornire dei servizi ecosistemici con due in valenze ma noi adesso oggi ci concentriamo sull'habitat per organismi pur sapendo che questo servizio ecosistemici è legato strettamente a tutti gli altri che sono più citati e quindi la prima un paio di dati importanti cioè normalmente si ragionano in tanti di biodiversità di vertebrati che tuttavia sono negli ultimi anni in cado al 68% quindi insomma abbiamo un problema importante di perte biodiversità a livello globale ma ci dimentichiamo troppo spesso che il 98% della biodiversità italiana è data dall'invergola e quindi molto spesso queste perdite di specie non sono nemmeno conosciute secondo recenti stime la biodiversità del pianeta addirittura il 59% su PNAS è stato pubblicato ora quest'anno il 59% più o meno 15% della biodiversità risiede nel suolo nonostante ricopra diciamo il 3% della superficie e soprattutto tra l'altro nella parte più come sapete nella parte più superficiale i 4-15% gli animali sono nematomi che come vi ho otto negli aspetti molto spesso qualcuno non conosce oppure sono la grande totalità degli animali c'è 57 miliardi per ogni essere umano e come ragioniamo in questo caos di biodiversità del suolo per grandi gruppi in base alla larghezza del suolo non la lunghezza attenzione perché sostanzialmente la distrazione con il servitore italese con una maglia di 2 mm quindi è chiaro che sarebbe impossibile separare gli animali sulla base della lunghezza ma invece la larghezza ci dà delle informazioni molto importanti perché come vediamo la divisione di microorganismi prima microfauna mesofauna e macrofauna dipende da diverse cioè chi si occupa di trasformare sa benissimo l'importanza delle scale ecco qua ragioniamo un attimo su quali sono gli effetti di queste prima microretti che io vi ho sottolineato questo aspetto importante che l'area d'azione è da qualche centimetro cubico ed è il tempo di tornare da un giorno a una settimana quindi molto veloce e molto in azione questi qui sono inseriti anche i batteri e i funghi che hanno un ruolo fondamentale però voi capite che in ambito di gestione agronomica c'è una diversità spaziale che è molto difficile da valutare prego grazie le mesoretti invece hanno una relazione da pochi centimetri a qualche metro e un turno da pochi giorni a mesi e sono quindi hanno questo aspetto quindi le mesoretti sono interessanti proprio per questa dimensione intermedia e collegate alle micro e alle macro reti dove c'è dove ci sono tipicamente i domicchi ma anche la macro fauna e il tempo di turnover però può essere da qualche metro addirittura un chilometro e il turnover da mesi anche anni quindi ci allontaniamo un po' da quella che è la lettura che anche ora nell'ottimità sono abbiamo visto ecco perché intanto un aspetto importante di collegamento tra le reti quindi come se fosse una radice che non sapete è un cartale e ok va bene così si sente? perfetto grazie quindi questo aspetto di continuità del continuum del suolo soprattutto nel campo della biodiversità è una di queste complesse affascinante del detrito sappiamo la vitalità il cibo relativo e la casa relativa in questo caso la mesofauna che notoriamente è costituita da enchi preidi che sono purtroppo poco conosciuti abbiamo visto il 98% delle specie che si è nel suolo però sono di difficile distinzione e i parropodi che invece sono più noti tra tutti gli acari ricollemboli sembrano i più adatti per monitorare le pratiche agricole a livello quindi aziendale però ricordandosi sempre di questi collegamenti di questo frattale tra le diverse scale qui c'è un protagonista un sintilo così però che è molto eodafico come vedete cioè depigmentato all'assenza di occhi e la salute del suolo non può essere misurata ecco questo è quello che vorrei sottolineare fortemente nelle 96 pagine della sole monitor si parla di biodiversità in quattro righe nell'allegato senza specifiche e dimenticarsi completamente la mesofauna come se non esistesse noi l'abbiamo denunciato cioè denunciato diciamo l'abbiamo segnalato nei feedback come sapete si poteva presentare e abbiamo avuto anche molti apprezzamenti anche dall'estero cioè sopporti insomma di anche scienziati importanti e né quindi però non possiamo valutare la salute del suolo come qualcosa che è misurata con il carbone organico perché è vero che c'è una una quasi provocatoriamente però insomma c'è una relazione tra la vita nel suolo e il carbone organico ma perché non dimentichiamoci di andare al core del problema e altro aspetto è che siccome la distribuzione del suolo non è random non è casuale ma è aggregata intorno a un hotspot un formicaio ho pensato tanto per dirne una occorre non ragionare in termini di abbondanza sennò rischiamo di fare l'errore che un suolo infestato da malagina incognita che è un ematode fitobarassita è un ottimo suolo perché ha moltissimi ematodi quindi ragionamento di diversità quindi con indici ecologici funzionali e possibilmente di comunità non solo di specie che devono essere dei robusti semplici perché anche questo è importante la tassomamia in questo settore è molto complicata e questo vuol dire anche onerosa in termini di formazione devono essere economici e soprattutto anche standardizzabili come tutti gli altri indici che sappiamo di questo e quindi partiamo su queste basi a ragionare in termini quindi abbiamo detto mesoleti microartropodi ragioniamo in termini di questo concetto di forma biologica che è in funzione dell'adattamento al suolo si definiscono alcune caratteristiche di adattamento morfologico che sono la dipigmentazione nel senso di occhi di alice di setore di etichette di miniaturizzazione che sono caratteristiche e consentono in modo abbastanza speditivo di distinguere in funzione dell'adattamento iperedatici e vodatici ed evoedatici che sono quelli più deboli diciamo perché chiaramente capita bene che uranio si può spostare ma un'observo scorpione un dipluro o un collembolo o una tulbergia come quella che vediamo lì sono molto più delicati e se non li trovo significa che qualcosa è successo abbiamo ragionato nel confronto tra diversi indici nell'ultimo anno abbiamo presentato a Dublino e a Palermo al congresso nazionale di entomologia e al congresso congiunto SICA Sib delle società scientifiche questi confronti su 17 siti europei che stiamo per pubblicare insomma i più famosi indici cioè basati come abbiamo detto sulle forme ideologiche nel rapporto tra cari collemboli l'alfa biodiversità ricchezza scena ma il mess eccetera e il QBSAB che è basato sulle che consiglia anche la pondanza il QBSA e anche un nuovo indice che considera tutte le forme ideologiche ecco abbiamo visto che proprio il QBSR a livello di FXSize è quello che discrimina meglio i campi la gestione integrata ideologica e anche le continuazioni che in questo caso sono Apple Strobery e Tomato come vedete dalle immagini quindi abbiamo proprio con questa valutazione della comunità una maggiore discriminazione quindi una maggiore capacità di leggere le differenze che ci aspettiamo sostanzialmente indipendentemente anche dalle relativamente ovviamente dalle situazioni climatiche questo è un intermezzo pubblicitario giusto per farvi vedere un 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 ribattere un ribatteo che è tipicamente adattato al suolo e che anche per dire così in modo scherzoso che gli acari non sono solo quella cosa schifosa che per cui ci grattiamo insomma ma sono fondamentali per la regione suola e quindi ecco che nel nel 2001 io mi sono laureato in realtà con il professor Parisi nel 2000 e già si ragionava su questo metodo e abbiamo la distinzione l'assegnazione di un indice comorfologico sulla base delle forme biologiche che andiamo a trovare e qui che può essere unico per alcune forme biologiche o diverso perché ci sono alcuni collegoli per esempio ragni o di globo di chilopoli eccetera che hanno diverse caratteristiche ma a se concetti delle specie o addirittura ci sono delle specie che hanno che possono essere anche lì ma essere euridafiche euridafiche ma noi guardando allo stereoscopio riusciamo a associare questo concetto laddove per qualità biologica del suolo si intende una maggiore numero di forme biologiche ben adattate questo intendendo come qualità una maggiore stabilità una maggiore contenuto di sostanza organica proprio dalle parole di Parisi insomma e quindi con i limiti ovviamente che tutto questo ha da un punto di vista scientifico ma con un grosso interesse applicativo di fatto nel 905 Berlese inventa l'estrattore proprio nel centro dove lavoriamo a Firenze e quindi nel 2001 Vittorio Barisi pubblica il suo metodo e adesso abbiamo reso nel 2022 passaggio ovviamente solo un esempio di qualche età il metodo è disponibile anche standardizzato gratuitamente sulla piattaforma Zerogono poi ne parlo della cilindra abbiamo anche fondato nel 2017 un gruppo di esperti del metodo QBS che oggi ha 73 membri con 4 coordinatori oltre a me Carlo c'è Cristina Menta dell'Università di Parma e Fabrizio Cassi di Timesis che molti di voi conoscono e che ognuno di noi rappresenta un po' i centri di ricerca le ARPA e gli aspetti di monitoraggio da quel punto di vista è Carlo appunto l'Università la Cristina e gli enti privati Fabrizio Cassi e come vedete siamo anche abbastanza diffusi in quasi tutte le regioni l'iscrizione è peraltro gratuita e consente di avere un database di tutte le pubblicazioni che abbiamo raccolto che sono numerose sul che attengono a QBS report eccetera sono tutti su una Dropbox avanti ecco questo è il Minotaur che è un progetto della famiglia GP che vorrei sottolineare un po' all'Armano e che è l'unico progetto veramente dedicato alla biodiversità in tutto il grande programma e GP solido come se effettivamente fosse la sorella minore degli indicatori e però è esprettamente dedicato e questo ha consentito di realizzare anche insieme al gruppo che avevo appena citato e all'altro progetto che è un H2020 questo escalico dove appunto lavoriamo anche lì per QBS questa scheda che con il QR code è scaricabile consente anche di realizzare un export e anche con R fare delle operazioni insomma semplificate per avere l'ancorpamento di più schede proprio per cercare di fare in modo che questi dati siano interoperabili e quindi confrontabili e ha iniziato a caricare su questo template che è un template europeo per tutta la biodiversità del suolo quindi non solo ovviamente della mesofauna alcuni dati vedete che abbiamo già sette siti e l'idea è quello di essere comunque un riferimento proprio anche su questo perché UdalfoBase e i database che ci sono in realtà sono nati dai musei di storia naturale sono osservazioni ma non contengono i nemici ditemi se devo accelerare ok scusatemi se non comunque siamo verso la fine arrivano un intoraggio e volevo solo dire che anche a livello di ho mandato da Stefano Calchi che è l'ordinatore del progetto di dire che noi stiamo preparando proprio per le regioni grazie con il contributo anche dell'Erso Lombardia dei questionarii ok per cercare di capire degli indicatori proprio specifici sulla biodiversità e i piani di monitoraggio perché non c'è molti piani di monitoraggio in Europa anzi non esiste nessuno da quello che abbiamo capito a livello nazionale ci sono molte esperienze sono esperienze sul QBS ma che non sono proprio veri piani di monitoraggio ma sono esperienze che però tuttavia sono molto diffuse in Italia il QBS è conosciuto anche all'estero ma diciamo che è molto più conosciuto in Italia e avanti il monitoraggio che ha realizzato l'ISPRA sulle misure del PAN sugli effetti dei prodotti fitosanitari sulla mesofauna sui microotropoli e su altre questioni è disponibile e adesso vi faccio una carrellata ovviamente non esaustiva di quelli che sono i piani di monitoraggio regionali che sono disponibili proprio in Piemonte nel 2002 l'ARPA ha realizzato il volume di mezzi di monitoraggio ora le analisi vengono fatte dall'ARPA di partimento sud-ovest di Cuneo e ovviamente da lì ci racconterà le cose che ovviamente non ho citato qualcosa che è in post ma invece questo altro aspetto perché dal 2003 al 2009 ci sono questi dati che credo siano anche di interesse dopo per il confronto e la continuazione di questo lavoro avanti in Emilia Romagna il monitoraggio riguarda 58 siti tra il 2015 e il 2017 ripetuti nel 2019 sono stati ripetuti sia in primavera che in autunno per il confronto per capire perché ovviamente il limite di questo campionamento non l'ho detto non ho parlato di campionamento non avevo tempo ma va fatto in primavera o in autunno e ci sono dei report sempre disponibili del nostro Dropbox che analizzano tutte queste reti di monitoraggio cioè che riportano tutte queste reti di monitoraggio avanti ecco anche in Veneto sono stati raccolti oltre il 1400 campioni dal 2012 a oggi isprima i 16 siti poi altri 4 poi altri 22 anche questi sono disponibili i risultati ovviamente chiaramente tutti ognuno un po' per conto suo con alcune differenze di metodo che stiamo cercando di armonizzare in Friuli Venezia Giulia così abbiamo coperto praticamente tutto il nord perché prima l'ho citata c'è anche l'Erso Lombardia chiaramente e però ci fermiamo qui nel senso che il monitoraggio per qualche motivo è stato almeno a nostra conoscenza è stato fatto soprattutto a livello regionale cioè con dei stimoli regionali di monitoraggio è stato fatto in questo lavoro noi tra l'altro siamo la FAO sta recependo come SOP operature standard operative procedure del QBS siamo in fase finale di approvazione e quindi avremo anche un riferimento gratuito sul metodo e un protocollo chiare standardizzato e valutato io non ho messo le conclusioni la conclusione chiaramente è quella che con i limiti chiaramente la qualità biologica del suolo riferita agli artropoli è molto importante non è esaustiva di tutta la diversità non è esaustiva di tutta la qualità però è un punto importante che ci può dare un'informazione fera sulla comunità in un indice che da più di 20 anni è effettivamente utilizzato ha avuto molte prove difficili da superare e per adesso le ha superate con un certo successo e stiamo pertanto cercando di portarlo anche in Europa quindi vi ringrazio vi ricordo solo che abbiamo questa sessione se una cosa convene in questa sessione perché a marzo ci sarà il centenario dell'international di un'opso di sani a Firenze un appuntamento molto importante e questa sessione è proprio sugli indicatori biologici sulla fauna del suolo quindi ovviamente aperti non solo alla mezza fauna ma anche animatoli e tutti quegli animaletti che vi mostri a tutti grazie grazie a Lorenzo Davino è tutto molto molto interessante molto interessante e credo che si agganci bene a tutta una serie di questioni che andremo a approfondire nei prossimi interventi anche perché dal monitoraggio della qualità biologica del suolo passiamo agli indicatori di qualità del suolo con Romina Lorenzetti del CNR IBE che ringraziamo per essere con noi allora ringrazio io voi e ringrazio vi porto anche i servizi di Costanza e Fabrizio e per Costanza oggi è l'ultimo giorno di lavoro sì e lei è una bella giornata diciamo allora con questa presentazione vi parlerò brevemente di Serena facendo il focus appunto sugli indicatori Serena appartiene a questa famiglia di progetti all'interno di GP Soil in particolare in particolare risponde agli impatti attesi sulla linea strategica della valutazione e del monitoraggio insieme a una serie di altri progetti facendo il focus sul tema dei framework e degli indicatori da SIREN eredita come definizioni sugli indicatori e collabora anche con Minotauro per quanto riguarda la biodiversità del suolo lo scopo fondamentalmente è quello di utilizzare testare e migliorare la robustezza e la sensibilità degli indicatori esistenti e di armonizzare metodi definizioni e metodi per l'applicazione di questi indicatori mappare minacce e servizi ecosistemici del suolo si basa sostanzialmente su tre pilastri sicuramente il primo è il coinvolgimento di stakeholder utenti finali in tutte diciamo le varie fasi del progetto e sull'idea che almeno per diversi ecosystem system services and soil treats abbiamo possiamo intendere i due come due lati della stessa medaglia quindi vi ho portato l'esempio dell'erosione appunto quindi anche sugli indicatori questo ha un certo valore nel momento in cui si vanno a studiare e infine si propone di studiare servizi ecosistemici e minacce nel loro insieme cioè come si propongono nello spazio e nel tempo contemporaneamente e questo diciamo un po' il concetto innovativo di bundle i principali prodotti quindi che si aspettano da Serena sono quello di sviluppare e promuovere un framework per valutare servizi ecosistemici e minacci del suolo discutere le definizioni di questi concetti principali e sviluppare dei cookbooks che possono essere applicati all'interno della strada di Serena per mappare bundle e servizi ecosistemici e soltri i risultati saranno convalidati e trasferiti a tutte le parti interessate Serena è una struttura abbastanza complessa che si organizza in sei WP i quali i input dei quali diventano gli output di alcuni dei quali diventano gli input degli altri quindi c'è una struttura abbastanza complessa in cui il WP1 si interessa soprattutto del convolgimento degli stakeholder il WP2 dell'armonizzazione a partire dalle definizioni fino al convolgimento e lo sviluppo di questi cookbook quindi metodologie WP3 e WP5 sono quelli più applicativi il primo a livello nazionale l'altro è la produzione di mappe relative a questi concetti di cui abbiamo già parlato e infine il WP4 si occupa delle politiche e il WP6 della comunicazione sarò più rapida di quanto riportato nelle slide per quanto riguarda il WP1 credo sia interessante parlare del risultato già diciamo del corso e del risultato già ottenuto relativo a un questionario che è stato somministrato al consorzio di Serena relativamente alle definizioni le definizioni vengono acquisite diciamo da WP2 e organizzate in un quadro terminologico abbastanza denso in cui gli indicatori sono raggruppati diciamo per tematica a livello semantico e collegati da una parte ai solitrizi dall'altra ai solito System Services e in grassetto vedete i collegamenti le interrelazioni più forti il quadro è inteso appunto all'ussare la percezione del team di progetto riguardo a queste relazioni cosa ne è emerso una ancora una diciamo una vacanza di omogeneità di come vengono utilizzati questi termini e anche la presenza di termini poco intuitivi verso un verso pubblico quindi la necessità di omogenizzare di armonizzare questa terminologia e lo scopo anche di questo questionario è proprio quello cioè quindi vengono sono stati presentati queste terminologie con delle definizioni quello che si recepisce è una un'espressione di quanto si è concordo o meno con queste definizioni quindi l'elaborazione che sarà disponibile a breve tramite una soglia deciderà cosa è diciamo i termini che vengono accettati tra quali e quali che necessitano ancora di una seconda revisione e a breve saranno disponibili questi risultati il VP2 appunto ha lavorato sulla sull'ammonizzazione di queste definizioni quindi faccio il focus su quello che è stato già concluso quindi l'armonizzazione delle definizioni degli indicatori in un primo delibero appunto delibera ha stilato un elenco di 15 termini fondamentali che sono stati elaborati da un gruppo e poi sottoposti alla comunità di Serena e quindi presentati in una definizione definitiva presento tutto l'elenco comunque per esempio il bundle viene definito come un insieme di servizi ecosistemici minacce per il suolo e la combinazione dei due che accompagnano insieme ripetutamente nel tempo e nello spazio in relazione a un contesto specifico così via un secondo step è stato quello di valutare quali fossero i servizi ecosistemici del suolo e i soil treads particolarmente importanti all'interno del consorso di Serena quindi per dargli una precedenza in termini di studi di quale essere studiati sono risultati essere gli ultimi iniziati in giallo quindi la perdita di carboni organi con il suolo e la regolazione nei confronti del clima chiaramente a questo lavoro sono stati raccolti tutti gli indicatori da bibliografia utilizzati per la stima di questi servizi e minacce e un ulteriore step è stato quello di dare una valutazione di questi indicatori quali fossero i migliori da usare quindi la prima cosa il primo step è stato creare degli indici dei criteri che potessero essere utilizzati per questa valutazione sono stati individuati sette criteri raggruppati per area semantica in tema riguardo diciamo la qualità scientifica la disponibilità del dato e la capacità di trasmettere informazioni quindi quanto fosse comunicativo rispetto anche alla comunità intera e ai vari tipi di stakeholder a tutti questi criteri hanno diversi livelli ordinali e quindi vengono dati assegnati dei punteggi ai vari classi di ogni criterio e il risultato è stato questo schematicamente con dei diagrammi a stella si può vedere come per i vari indicatori per ogni per ogni criterio si ha appunto un punteggio da 0 a 12 come diciamo primo commento possiamo dire che in alcuni casi i vari indicatori hanno tutti dei simili feedback in termini di valutazione di questi criteri in altri casi invece ci sono alcuni indicatori che rispondono bene su alcuni criteri e male in altri quindi lo step successivo ancora è quello di capire come utilizzare questa valutazione l'idea è stata quella di dare priorità ai criteri appunto agli indicatori ideali ovvero quelli che rispondevano meglio a tutti i criteri valutati chiaramente questo non vuol dire che poi questi indicatori possono essere realmente utilizzabili perché poi ci si scontra appunto con la disponibilità sostanzialmente con il fatto che un dato sia reperibile e che sia veramente disponibile quindi si passa da una comunità di indicatori considerati ideali quelli che rispondono meglio a criteri a quelli realistici che può arrivare a quelli veramente possibili in base alla disponibilità del dato e questo è il risultato ottenuto questa classificazione su vari indicatori quindi il WP3 come vi dicevo è più applicativo e insieme al WP2 sta elaborando dei cookbook quindi si arriverà a delle metodologie standardizzate armonizzate che verranno poi applicate provate testate all'interno di Serena e infine date definitive facciamo uno zoom su quello che è già concluso che non sono questi cookbook ma sono uno step precedente appunto una valutazione di quello che è attualmente disponibile in termini di questi insomma delle valutazioni fatte per i servizi ecosistemici e le minacce e i bundles sono stati raccolti dai presso i 14 stati membri partecipanti informazioni a scala nazionale ma anche a scala regionale qualora è stato considerato insomma opportuno e utile i dati raccolti riguardano 5 soli e 4 soli ecosistema e services rilevanti rilevanti secondo la priorità stabilita dal task WP2 e solo un paese è riuscito a fornire informazioni riguardo al bundles le informazioni raccolte questo ha portato una scheda diciamo solo per esempio riguardano chiaramente innanzitutto l'oggetto quindi di quale minaccia al servizio sistematico si sta parlando l'indicatore utilizzato l'unità di riferimento e la metodologia utilizzata sia diciamo in termini di categoria come breve descrizione gli input necessari per far girare il modello il modello per fare per ottenere il risultato e anche la disponibilità di questi dati infine che tipo di risultato è stato ottenuto e disponibile che sia una mappa un grafico una tabella e via dicendo queste informazioni sono sotto diciamo raccolte attualmente sono in fase di finale di un studio diciamo critico per poi tirare fuori dei risultati il WP4 per quanto riguarda gli indicatori ha fornito attualmente un elenco di indicatori utilizzati da le politiche internazionali uno step realizzato è quello dello studio documentale delle attuali politiche relativa al suolo mentre è ancora in forza una consultazione per quanto riguarda quali sono gli indicatori che dovrebbero entrare nella politica futura sinteticamente queste due tabella riportano quanto è stato evidenziato da questo studio quindi quanti sono gli indicatori su quali Serena lavora nominati all'interno delle varie politiche e invece quali sono gli indicatori più utilizzati cioè quanti documenti compaiono i vari indicatori per darci un'idea di quali siano i più affermati in questo momento quelli che sembrano funzionare meglio e più adottati a livello europeo sono state realizzate realizzati come per il WP3 una raccolta di informazioni già esistenti e sono già in corso delle attività per mappare servizi ecosistemici servizi e band a livello europeo per quanto riguarda il primo step i documenti è stato difficile diciamo c'è stata innanzitutto una difficoltà nel raccogliere queste informazioni perché in letteratura chiaramente queste definizioni non sono concordi con quelle lavorate dentro Serena quindi innanzitutto il primo step è stato capire cosa poter associare a quanto definito dentro dentro Serena i documenti raccolti dopo una revisione sistematica sui motori disponibili consiste in nove documenti per i servizi ecosistemici e 26 per le minacce includendo anche alcuni documenti che non sono propriamente documenti scientifici ma non sono operazioni solo tre paper risultavano correlati al tema degli scenari e solamente tre riguardano lo studio delle interazioni tra servizi ecosistemici e l'idea di evidenziare sinergia e trade-offs che è un po' la base del concetto dei bundles alcuni chiaramente sono risultati già più studiati in particolare il controllo dell'evoluzione la regolazione sui gas all'effetto sul clima la regolazione del suolo e la perdita di campano organico per ogni uno di questi servizi ecosistemici e soltrizi sono stati raccolti gli indicatori utilizzati e una breve descrizione ai riferimenti a cui far riferimento appunto per quanto riguarda l'altro esercizio quello di mappatura sono state selezionate alcuni sia servizi ecosistemici questo è il caso dei servizi ecosistemici che soltrizi tramite un esercizio di digital solmapping legato diciamo appoggiato a un approccio di clustering vengono creati dei bundle dei bundles tramite in questo esercizio sono stati creati 10 bundles in Europa e quello che vedete nel grafico a destra è come questi cioè i valori che assumono i vari servizi ecosistemici all'interno dei vari bundle l'operazione è stata quella innanzitutto la scelta degli indicatori quelli che avevano dati per i quali era possibile avere dati disponibili nell'attuale ma anche per il futuro quindi non solo quello che è attualmente disponibile ma anche qualcosa che potesse essere poi confrontato con il risultato che si poteva ottenere nel futuro quindi alcune informazioni magari anche più dettagliate presenti nel presente ma che non potevano essere poi esatto sceltate nel futuro non sono state selezionate appunto dopo questa selezione una quantificazione dei servizi ecosistemici selezionati quindi una proiezione del futuro e infine una valutazione di questi bundle questo è un esercizio fatto sui servizi ecosistemici e questo quello fatto sui saltrips non entrerei particolarmente in dettaglio diciamo chiaramente più o meno il discorso metodologico è equivalente tranne che a causa della scelta della fatta sui dati di ingresso in alcuni casi non era possibile creare uno strato attuale perché il dato di riferimento è legato a fare i riferimenti al 2015 e non allo stato corretto del 2023 e quindi era possibile fare una mappa per il futuro ma non per il futuro ma non per il presente e quindi più che un confronto tra presente e futuro della valutazione è stata scelta di fare un confronto rispetto ai valori medi del servizio che il servizio ecosistemici offriva quindi i cluster sono riferiti a valori che stanno sopra o sotto il valore medio stimato e nel salutarvi diciamo vorrei sinteticamente dire che credo che attualmente lo stato dell'arte di Serena ha fornito grande informazione a livello di armonizzazione si è fatto un grande sforzo sia sulla nomenicatura e in corso tutto per i metodi che probabilmente sia ancora un po' indietro per quanto riguarda le soglie di cui si parlava anche ieri si stavano discutendo in questi gruppi intertastici che lavora sui sui cookbooks se si riesce e come si riesce ad inserire queste soglie e diciamo che forse questo è il messaggio un po' rispetto alla tematica che trattate anche ieri che mi sentivo di portarvi quindi grazie si soglie e armonizzazione sicuramente sono temi assolutamente centrali per niente banali niente banali bene bene allora ci chiedevano giustamente i referenti dei i suoi lab e di i gp soil se chi è online potesse accendere momentaneamente la telecamera così facciamo una foto diciamo allo schermo giusto per avere come dire delle facce non semplicemente delle icone con delle iniziali per far vedere appunto che c'è un interesse e un certo partecipazione se mi ricordo come si sa ancora qualcuno si accende è un interesse prova ma di se io faccio una foto per sicurezza faccio una foto ecco facciamo una foto non mi fido di voi infatti che sta registrando quindi dovrebbe esserci questa registrazione mi auguro ok grazie grazie mille gentilissime benissimo e ecco direi che possiamo andare avanti rientriamo un po' nelle questioni regionali nostrane con due nostri colleghi Nicoletta Agliani e Maurizio Quirino che ci parlano del monitoraggio della biodiversità dei sud del Piemonte Nicoletta lo dico perché ha seguito per moltissimi anni in prima persona il progetto di monitoraggio delle misure del programma di sviluppo rurale ha contribuito insieme a IRAS regione Piemonte alla costruzione di quello che Riccardo Graffi di fatto ci ha illustrato nel primo intervento e ancora oggi qua collabora preziosamente con noi grazie è troppo buono io vi chiedo solo rubo un minuto riavvolgendo il nastro rispetto all'ultimo intervento di ieri sera perché mi era sembrato ieri io seguivo online e non avevo la possibilità di intervenire per altri temi di linea mi era sembrato capire che necessitasse una piccola liaison sulle differenze fra i compionamenti del settore fisiosanitario che costituiscono la banca d'arti dei top soil del Piemonte rispetto alle analisi IPLA che riguardano i profili e i livevi pedologici per la caratterizzazione dei profili intanto qui approfittiamo per ringraziare Cinzia Partusio che è la nostra collega che coordina ed esegue la maggior parte delle analisi del laboratorio e anche parafulmine di tutti i nostri isterismi riguardo le scadenze eccetera eccetera quindi ha doppio merito anche il tecnico e l'umano detto questo appunto le analisi potrebbe quando parliamo per esempio di carbonio organico confrontiamo i due database potrebbero ci sono si parlano però ci possono essere delle differenze perché i nostri campioni sono prelevati dai profili dagli orizzonti mentre invece il campionamento del suolo che viene conferito dal settore fitosanitario è il classico 020 o 030 quindi a seconda di come è il profilo abbiamo un più alto o più basso grado di coincidenza fra i due tipi di risultati analitici detto questo quindi avete il QBS anche per profilo? no il QBS è solo sul top soil ma parlavamo di analisi di routine di analisi chimiche chimico-fisiche caratterizzazione dei suoli di routine ecco è una cosa anche importante per quanto riguarda noi è che la validazione avviene dialogando con i pedologi è sulla base della scheda di rilievo in campo e quindi a volte durante il profilo che viene portato in laboratorio per l'analisi è il profilo caposaldo della serie su cui si fanno le analisi sulla base di questo si aiuta la classificazione a volte per affinare la classificazione si richiede un'analisi supplementare eccetera c'è questo scambio fra il laboratorio analisi e il pedologo che rileva e classifica solo giusto per come si dice tirare i fili e dare continuità al discorso di ieri detto questo invece noi ci siamo in questo caso siamo dei fruitori delle metodologie che sono state esposte ieri è stato ampiamente illustrato il programma di sviluppo rurale dello sviluppo rurale secondo pilastro della PAC che deriva dallo svuotamento progressivo del primo pilastro cioè contributi dati per diritto a contributi dati ai virtuosi che volontariamente aderiscono a delle misurazioni e operazioni per fare qualcosa anche per migliorare l'ambiente non solo per aspetti economici legati agli investimenti la crescita dell'azienda la crescita economica dell'azienda detto questo quindi la commissione quando nel 2000 ha iniziato a varare il primo programma il primo quadro di sviluppo rurale europeo ha anche cominciato a chiedere conto dei risultati dell'applicazione di queste politiche pertanto si sono affinate nel corso del tempo delle metodologie che all'inizio erano un po' artigianali perché la commissione ci chiedeva tu ogni anno mi devi dire che cosa ha fatto le misure che effetti hanno avuto le misure che ha applicato nei confronti del suolo della biodiversità delle acque eccetera eccetera senza darci un frame di indicatore specifico eravamo nel 99 2000 poi pian pianino si sono affinate si è affinato il quadro di monitoraggio e valutazione che adesso è abbastanza diciamo rigido noi abbiamo tutti gli anni una serie di indicatori da tenere sott'occhio da monitorare e dobbiamo rispondere ai grandi domandoni appunto che cosa ha fatto il PSR che tu hai applicato per la biodiversità per la qualità del suolo per l'erosione per il sequestro del carbonio e quindi noi abbiamo una serie di indicatori obbligatori da misurare che misuriamo altri che però non ci danno alcuni dei quali ci danno delle risposte soddisfacenti altri molto meno specialmente in termini di biodiversità noi specie all'inizio ci siamo provati un po' spiazzati perché l'unico indicatore era quello della rifarma ora la rifarma ha delle caratteristiche per cui nei casi come il nostro ma penso in tutte le regioni italiane lo sviluppo rurale è applicato a spot a mosaico non ci permetteva di valutare assolutamente nulla mentre invece siamo stati in contatto con la scuola Malvarnaldi di Bibiana che è stata la prima scuola di agricoltura biologica in Piemonte e alcuni tecnici che studiavano il metodo Parisi ci hanno suggerito di provare ad applicarlo specialmente in caso di analisi controfattuale cioè noi abbiamo un'applicazione di una misura agroambientale e una situazione in cui invece si opera in modo convenzionale facciamo un'analisi controfattuale prendiamo un bianco di riferimento un testimone naturale e vediamo come il parametro varia a seconda dell'applicazione o non applicazione della misura ci hanno suggerito di provare ad affrocciare il QBSAR e prima abbiamo cominciato a studiare gli articoli del professor Parisi dopodiché rapportandoci con Arpa Piemonte a partire dal 2002 abbiamo avuto il loro manuale che è stato illustrato giusto prima e quindi abbiamo sempre applicato questa metodica da un po' di tempo a questa parte grazie a Fabio Petrella che è inserito nel gruppo di studio di lavoro sulla qualità biologica e la fertilità biologica dei suoli abbiamo iniziato anche ad analizzare il QBSAR su campioni provenienti dai profili rilevati per per la classificazione dei suoli variatari dei suoli recentemente poi come compendio alla qualità biologica del suolo abbiamo iniziato anche ad analizzare l'indice di fertilità biologica perché ci siamo detti ok i microantropodi sono un ottimo indicatore abbiamo però anche la biomassa microbica e in base a quanto lavora abbiamo dei risultati di fertilità biologica molto diverse e quindi abbiamo cominciato seguendo il metodo proposto dal gruppo di lavoro di Atlas giusto ad analizzare anche l'indice di fertilità biologica che è composto da frazionamento del carbonio quindi carbonio organico totale carbonio della biomassa e indice di respirazione della biomassa la combinazione di questi tre parametri ma penso che tutti quanti siate a conoscenza della cosa si realizza una serie di punteggi ci sono poi dei parametri derivati che sono la respirazione basale giornaliera con la 27 giorni il quotiente metabolico e il quotiente di mineralizzazione tutti questi parametri direttamente misurati e derivati hanno un punteggio che sommato ci va a dare la classe di appartenenza dal punto di vista della fertilità biologica ovviamente questo lavoro lo facciamo sul top soil dopo aver attivato la biomassa portando i campioni di suolo alla capacità di campo e incubandoli per un tempo sufficiente almeno 24 ore e dopodiché sottoponendoli ai vari trattamenti abbiamo adottato questi due indici perché tra quelli proposti sono i più speditivi il nostro problema è sempre quello il numero dei rilievi da fare per arrivare a estendere il monitoraggio sulla griglia necessaria per dare la risposta alla regione Piemonte quindi non che questi siano semplicissimi perché comunque l'estrazione con l'estrattore di bellezza implica che questi campioni siano giorni 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 sotto la lampada e poi il momento della determinazione comunque del riconoscimento delle specie presenti nel campione estratto va fatto da persone che lo sanno fare e richiede comunque tempo è vero che è più speditivo di altri perché basta individuare un individuo appartenente a quel taxon e automaticamente si dà il punteggio quindi rispetto al rapporto acari con l'engoli che è folle da calcolare su tanti campioni questo è sicuramente molto più speditivo e più immediato e comunque anche l'analisi del trazionamento del caffonio e dell'indice di respirazione hanno dei tempi molto lunghi per via delle incubazioni eccetera eccetera comunque la combinazione dei due poi vi parlerà Fabio di questo di questo sì del fatto del come combinare i punteggi comunque in linea di massima ci dà una panoramica che per le nostre esigenze va bene per definire la qualità di un suolo sia per quanto riguarda la biomassa microbica che per quanto riguarda i microtropoli detto questo vabbè questo è quanto e questa è la classificazione del punteggio della classificazione dell'indice di fertilità biologica come lo abbiamo applicato allora innanzitutto il QBS a noi è servito appunto dicevo per dare delle risposte all'efficacia di certe di certe misure azioni e operazioni dello sviluppo rurale sulla biodiversità del suolo sulla biodiversità anche più in generale perché per rispondere ai grandi domandoni all'inizio abbiamo cominciato a rampicarci un po' sui vetri poi abbiamo affinato i sistemi quindi sostanzialmente noi abbiamo fatto delle analisi controfattuali per uso del suolo quindi abbiamo provato a vedere che differenze ci sono fra un suolo naturale fra gli elementi dell'agricosistema a contributo PSR cioè seppi filari piccoli piccole aree boscate eccetera rispetto al loro coltivo di riferimento quindi io bisogno di fare un confronto fra il campo arato e la sebe che gli sta immediatamente accanto coltivazioni legnose vite fruttiferi e quindi lì abbiamo anche approfondito la questione di inervimento degli interfilari in Piemonte ci sono diverse decine di migliaia di ettari a sottopremio inervimento degli interfilari e quindi anche lì abbiamo cercato di capire se rispetto all'interfilare lavorato e rispetto al filare ci fossero delle differenze quindi se il contributo di questa operazione potesse essere significativamente positivo nel caso di seminativi e di coltura piccole poi abbiamo confrontato i vari disciplinari di produzione produzione integrata PSR la produzione biologica e il convenzionale in confronto a un incolto di riferimento sempre preso nell'ambito di prelievo di serbi in confronto a lavorazioni meccaniche e anche rispetto al compattamento ieri si citava l'indicatore del compattamento chiedendosi se potesse avere o non significato noi abbiamo seguito una tesi di dottorato di ricerca della meccanica agraria con la professoressa Guidoni dove effettivamente si rilevavano delle differenze a livello di VPS nelle aree compattate dal passaggio dei mezzi rispetto al resto dell'interfilare dopodiché nell'ultimo PSR abbiamo avuto contributi per la semina su sodo per la minima lavorazione e per l'ammendamento con sostanza organica di pregio anche in questo caso abbiamo messo su delle analisi contrafattuali appunto per dare le risposte delle risposte adeguate alla valutazione del PSR i risultati più macroscopici allora in qualsiasi ambiente naturale la biodiversità del suolo è risultata migliore rispetto ai coltivi ma nel caso di produzione biologica siamo abbastanza vicino la qualità biologica degli elementi dell'agroecosistema seppur artificiali è comunque superiore agli appezzamenti coltivati nelle colture legnose agrarie la qualità biologica del suolo risulta migliore lungo il filare indipendente dal metodo di conduzione questo ci ha fatto un po' pensare insieme ad altri risultati che abbiamo ottenuto tipo per esempio il confronto fra un diserbo e una lavorazione fra una geodisinfestazione chimica e una lavorazione che tutto sommato ci sembra che anche se i risultati non sono altamente significativi che la perturbazione da compattamento da lavorazione disturbi dell'evestione molto di più di un trattamento chimico cioè sembra che probabilmente si ripigliano scappano sotto e poi si ripigliano e risalgono del monitoraggio apistico vi parla Maurizio dopo e quindi non vi dico niente sugli aspetti metodologici nel caso noi abbiamo riscontrato abbiamo fatto prelievi primavera e in autunno abbiamo riscontrato qualche problemino quando le campagne di prelievo non erano svolte contemporaneamente cioè se io faccio un'analisi di gruppi di confronto vado nei due tre giorni di campagna quando il clima è giusto quando ha piovuto non un mese fa ma magari una settimana fa c'è il rimetto delle condizioni attimali e faccio tutti i prelievi a tappeto più o meno contemporaneamente in questo caso abbiamo dei buoni risultati ultimamente con la siccità che c'è stata primaverile autunnale eccetera è chiaro che le difficoltà aumentano soprattutto quando il QBS il campione per il QBS viene prelevato contestualmente al rilievo pedologico perché il pedologo va in campo a scavare il profilo secondo un suo programma quindi in realtà per associare con la massima efficacia il risultato del QBS all'atlante pedologico bisognerebbe forse fare quasi una campagna a parte Fabio non è d'accordo no c'è quindi per due cose io però vabbè e questo è ecco e poi comunque il costo cresce perché se noi dobbiamo fare tre replicazioni per ogni sito per essere sicuri perché è vero che se io faccio tre buchi e piglio tre campioni magari trovo il proturo e un campione non lo trovo negli altri due quindi un campione non mi basta l'incontro casuale della bestiola ci lascia sempre un po' così nell'ansia di capire se questa c'era per caso o se effettivamente appartiene a quel suolo no il fatto di trovare tanti individui tanti tazza con individui depigmentati con gli uccelli atrofizzati l'apendice atrofizzati eccetera ci dà garanzia che questi stanno effettivamente vivendo in quel suolo per carità però comunque è una cosa che ci lascia un pochettino di ansia poi per carità no poi c'è da dire che diamo il punteggio ma poi infiliamo i nostri dati sulle chiavi dicotomiche per fare la classificazione di fertilità biologica quindi ci riportiamo un pochettino al grande gruppo e quindi diciamo eventuali incertezze in un certo senso vengono un pochettino accorpate l'IBF l'IBF non l'abbiamo ancora mai utilizzato nelle attività di valutazione dello sviluppo rurale però è stato abitualmente applicato per la redazione dell'Atlante considerazione di tipo metodologico facilmente standardizzabile non dipende appunto come già detto dalle condizioni di prelievo è applicabile anche a suoli che noi abbiamo già in casa quindi comunque all'inizio per fare un po' di rodaggio del metodo avevamo anche visto campioni già prelevati e avevamo aumentato un pochettino il pool di dati per ragionare ecco il processo analitico è un po' complesso per esempio ci sono alcuni piccoli intoppi a cui bisogna prestare molta attenzione per esempio quando si fumiga il campione per fare il confronto dell'analisi della biomassa bisogna poi fare questi lavaggi ripetuti sotto vuoto del campione se non si fanno bene quelli potrebbero generare delle sovrastime e quindi è un passaggio da tenere un po' sotto controllo oppure delle infiltrazioni di aria durante il saggio di respirazione perché quando noi incubiamo il campione per un lungo tempo possono succedere delle cose delle variazioni di temperatura della camera climatizzata insomma quando si tiene un campione su per tanto tempo possono succedere delle cose diciamo che la replicabilità del risultato dà minore variabilità insieme rispetto al QBSR ma utilizzati insieme comunque ci danno delle buone risposte sulla salute del nostro suolo ecco questioni aperte il costo il costo del prelievo e dell'analisi soprattutto del QBSR qualora appunto si dovessero fare delle campagne di prelievo che non coincidono con la campagna di rilievi pedologici la messa a punto di un indice che definisca la biodiversità del suolo a partire dalla combinazione dei due e la scala di valutazione in rapporto alla qualità dei suoli piemontesi e quindi qui il discorso magari lo riesce a approfondire meglio Fabio che è un po' più a dentro ma oggi non c'è tempo comunque restano un po' questioni aperte io avrei finito dico due parole io diciamo il discorso di fare gli indici anche alle indagini pedologiche nasce da una collaborazione con Anna Benedetti perché Anna Benedetti aveva illustrato nella scuola della biodiversità a cui ho partecipato tutti gli indici credo c'erano tutti i vari esperti e quindi si era deciso insieme con lei diciamo così approvare l'indice IBF anche diciamo su un'area di campionamento pedologico per vedere i risultati abbiamo fatto anche una pubblicazione insieme però diciamo che siamo sempre rimasti estremamente prudenti sul discorso della spazializzazione per cui il sottoscritto si è presa la briga che è la responsabilità di fare dei commenti nel report facciamo la regione Piemonte commentando i risultati del QBS e dell'IBF diciamo rispetto ai campionamenti ma riducendo al massimo le considerazioni di spazializzazione con una proposta di cartografia solo basata sull'IBF e non certo sul QBS perché nessuno di noi oserebbe mai spazializzare il QBS invece l'IBF si sono poi come dice Fabio ampie discussioni al suo tempo avute con la cosa di Fancariglia e Anna Benedetti a Roma discutendo proprio sul metodo e sul fatto che comunque c'è il metodo stesso fa congela una situazione di compionamento perché potendolo fare sul tritato essiccata a due minuti quindi il timing di confronto è fondamentale di compionamento andrebbe rifatto per esempio un trial che è andato a vedere nello stesso suono nella stessa situazione come andano nelle stagioni di EF nello stesso punto perché quando tu raccogli fritti cose tutto il discorso della biomassa e della respirazione è fatto su microcosco il laboratorio quindi a partire dalla situazione di compionamento è congelata e quindi la biomassa è quella di il mondo perché poi la stagione cambia quindi c'è questo problema per standardizzare dovrebbe essere campionati sempre tutti nello stesso momento allora questo lo impedisce però di fatto poter utilizzare campioni pedologici presindare diverse per cui c'è solo delle voci tant'è che bene il mondo in Lazio e anche con le applicazioni che hanno fatto direttamente a Roma con la Benedetti Biorella Regione Lazio e Regione Lombardia che in alcuni casi prendendo vecchie azioni pedologici non discriminava molto perché c'era la tendenza sostanzialmente e quindi noi per il po' il muore ci fosse risultati non comparabili secondo me comunque ci sono anche altri migliori di fattori che più sono perché l'uso del suor cioè paradossalmente se io oggi prelevo in un campo coltivato poi questo campo viene concimato butti dentro azoto già dei primi molto un certo tipo di fattura quindi vediamo alla fine se c'è poi spazio perché non vorrei che c'è gente che deve scappare e andare via Maurizio Quirino nostro collega che si occupa in particolare del QBS nonché di monitoraggio acquistico e vari altri monitoraggi cercherò di fare veloce si è parlato di noccioletti già ieri l'aumento dell'interesse sia economico che commerciale della nocciola il terreno di noccioletti stava aumentando in Piemonte in tutta Italia quindi abbiamo messo appunto questo monitoraggio a partire dello scorso anno anche sulla luce del lavoro dell'ISPRA dell'applicazione del PAN che ha con molti noccioletti se non sbaglio nell'ansia e quindi abbiamo utilizzato anche Piemonte abbiamo utilizzato i due metri in QBS e ci si mettono le epidotteri a fianco del monitoraggio apistico che era già iniziato alcuni anni fa due parole velocissime sulle epidotteri api il monitoraggio apistico era nato per valutare lo stato di salute dell'ambiente indipendentemente da singole misure del PSR in quanto il volo dato di 3 km impedisce di lavorare sulla singola misura ma per capire se le aree agricole più intensive creano un ambiente più o meno sano rispetto a una zona agricola meno intensiva quindi abbiamo alcune postazioni in aree agricole intensive di truppeti in orcioletti in aree seminative e dei cosiddetti bianchi che è un intorno dove l'agricoltura è fondamentalmente costituita da prato pascolo e poco d'altro una di queste postazioni è appunto questa qua sul noccioleto le analisi sono fatte su apiari che è in collaborazione con la sprumiene e il fido sanitario della regione di alcune analisi oltre alle archeologiche anche multiresiduali in matrici delle api polline e miele soprattutto e in caso di mortalità anche capire la causa della mortalità delle api alcune postazioni coinvolte in questo metoraggio fanno parte anche del circuito binet quindi si sovrappone il nostro metoraggio comunque lo ho effettuato una crea dei tecnici di esponiere quindi in questo caso ci sono ulteriori analisi anche sullo stato di salute delle api quindi patologie presenti nei campioni di api nei quattro campionamenti annuali che viene fatto alle binet io invece lavoro sulle api con monitoraggio mensile a partire da febbraio fino a novembre compatibilmente con le condizioni meteorologiche di questi mesi estremi sui lipidotti noi abbiamo cominciato già diversi anni fa a fare monitoraggi su diverse misure i noccioletti sono stati lasciati un po' a parte non sono stati coinvolti in alcune misure del PSR e quindi lo scorso anno insieme al QBS abbiamo iniziato su due siti a lavorare anche con i lipidotti abbiamo iniziato questo lavoro solo su due aree a Lecchio su una zona collinare quindi gli appezzamenti sono in pendenza la piana di Alba alla Morra invece è il secondo sito dove invece i noccioletti sono in pianura anche in questo caso lavoriamo su tre siti il convenzionale il biologico e il bianco costituiti a Lecchio da un bosco un perco pappineto mentre ad Alba la Morra la zona più intensamente coltivata trovare un bosco è molto difficile abbiamo utilizzato una tartufaia dell'azienda che ci ha ospitato l'azienda di La Morra è una grossa azienda viticola biologica anzi biodinamica parlando con il tecnico ci ha spiegato come hanno applicato con successo le tecniche biodinamiche sulla viticultura non ancora sulla con le due foto sono i due biologici di due siti i campionamenti fatti primavera autunno con i tre con i tre tesi per ogni per ogni sito velocemente risultati come ci si aspettava il bianco colorato in azzurro ha valori migliori di tutte e tre parametri quindi sia la classe del QBS che il valore del QBS che il numero di forme biologiche trovate nei campioni provando a fare analisi statistiche questo primo anno avendo solo due siti e pochi dati non sono venuti fuori differenze statisticamente significative anche se guardando questi valori una certa rilevanza tra i tre siti si può notare chiudo velocemente così recuperiamo la differenza si vede ma non statisticamente purtroppo quest'anno non ho ancora finito i lavori i campioni sono in laboratorio da leggere entro Natale devo portare i dati in regione quindi c'è però di farli come si diceva prima noi lavoriamo su quello che la regione ci dice di fare quindi io mi auguro che questa metodologia anche la parte della regione Piemonte sia compatibilmente con quello che il mistero ci permetterà di fare utilizzata per i monitoraggi delle prossime misure o operazioni e non chiamate adesso direi che mi fermo qua mi sono trovato molto bene grazie 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 mille a Maurizio proseguiamo direi ripeto il dibattito proviamo a vedere alla fine se abbiamo un po' di tempo per farlo compatibilmente con le fughe di ciascuno passiamo adesso alla metodologia per la stima del potenziale di sequestro di carbonio organico nel suolo con Roberta Farina del CREA che ci illustrerà la sua il servetto su presentazione sì allora preciso che la presentazione verrà fatta da me e dalla stanza Andrenelli purtroppo non è stata scritta nel programma perché l'ho coinvolta quando ormai il programma era definitivo però mi faccia piacere perché lei si sta occupando prevalentemente diciamo della gestione del modello e quindi vi farà degli interessanti esempi un interessante esempio per la verità grazie allora abbiamo evocato molte volte il carbonio organico del suolo in questi giorni quindi noi vi vorremmo illustrare quali possono essere le metodologie per la stima del potenziale di sequestro del carbonio organico nel suolo e illustrarvi anche un esempio di applicazione di queste metodologie perché è importante stimare il potenziale di sequestro del carbonio organico dei suoli perché lo sappiamo i suoli hanno una capacità di stoccaggio probabilmente anche diciamo non anzi non sfruttata completamente però possono anche mettere gas serga quindi noi dobbiamo sempre trovare un equilibrio tra l'input di carbonio e le uscite quindi quantificazioni precise sono diciamo richieste per predire l'effetto delle pratiche di gestione del suolo agrario per valutare la sostenibilità delle diverse opzioni di gestione a diverse scale per poter supportare le decisioni nel settore pubblico e privato abbiamo bisogno come ho appena detto di mantenere un bilancio netto o positivo tra il sequestro del carbonio e l'emissione di gas serra che più delle volte non sono solo CO2 ma sono anche altri gas serra quindi magari anche con un potere maggiore di influenzare il clima è necessario anche dal punto di vista diciamo del nostro paese per fornire i dati necessari per gli inventari nazionali inoltre adesso siamo tutti diciamo stiamo tutti lavorando siamo tutti interessati ai cosiddetti carbon credits cioè a dei crediti di carbonio che possono essere venduti sul mercato e quindi possono rappresentare un'opportunità anche di guadagno per gli agricoltori ed è chiaramente richiesta proprio perché si tratta di beni certificati una quantificazione della baseline e dello stoccaggio addizionale dovuto alle tecniche senza il farming qual è il problema con il carbonio organico ma anche con tutti i suoni il problema è che le possibili combinazioni di suono clima culture gestione delle culture sono non dico infiniti ma veramente numerosi e non è pensabile questa è per esempio un'immagine di una zona italiana non è pensabile di poter monitorare tutti questi usi del suolo e tutti questi suoli diversi è per questo che vengono utilizzati i modelli biofisici i modelli biofisici non sono altro che la sintesi delle conoscenze che noi abbiamo sulla dinamica del carbonio nel suolo o di altri fenomeni che avvengono nel suolo che ci permettono di stimare le potenzialità di sequestro di carbonio nel suolo la dinamica del carbonio in tutte quelle situazioni in cui le misure non possano essere effettuate non possiamo pensare di misurare il carbonio in ogni centimetro cubo di suolo e di grande importanza sono anche quelle di fare delle previsioni per il futuro che si tratti di cambiamenti climatici o che si tratti di nuove tecniche di gestione nuove specie eccetera i modelli sappiamo che in particolare per il carbonio organico la dinamica del carbonio organico è regolata da processi molto complessi che vedono entrate prevalentemente dovute ai residui vegetali e le radici e uscite di vario genere quindi non solo la CO2 ma anche le perdite diciamo come dissolvere organi carbon e qui non è citata ma abbiamo anche la perdita sotto forma di metano questi fattori quindi che come vedete sono molto numerosi sono stati incorporati in numerosi modelli di simulazione che una volta validati per una determinata zona possono essere utilizzati per prevedere il risultato di cambiamento del carbonio organico che cos'è un modello il modello non è altro che una strazione della realtà normalmente quando parliamo di modelli biofisici ci sono una serie di equazioni matematiche che sono state incluse nel programma e nel software e che quindi funziona diciamo in una sequenza continua di alimentazione del carbonio organico e di uscite del carbonio organico i modelli vengono classificati sia per lo scopo per cui vengono usati sia per l'approccio e la scala per quanto riguarda lo scopo i modelli possono simulare praticamente quasi tutto ma per quanto riguarda il suolo possono simulare o solo la dinamica del carbonio o possono simulare anche la crescita delle culture l'idrologia l'azoto il fosforo le rotazioni le lavorazioni possono veramente simulare moltissime delle operazioni culturali che vengono svolte per quanto riguarda l'approccio abbiamo modelli basati su processi meccanicistici cioè quello che noi sappiamo della dinamica di un determinato fenomeno modelli statistici modelli empirici in cui poi vi dirò esattamente cosa sono e per quanto riguarda la scala partiamo dal campo azienda regione paese fino all'intero pianeta diciamo così quindi sia una scala spaziale che temporale e chiaramente la scala temporale è sempre più ampia man mano che noi andiamo ad aumentare anche la scala spaziale l'approccio empirico è molto usato lo usiamo anche noi normalmente quando parliamo e discutiamo di un fenomeno perché è una rappresentazione in una forma di una semplice formula matematica di una relazione che noi abbiamo osservato tra una variabile e il suo effetto sulle emissioni i modelli empirici quindi sono per esempio quello che usa la PCC la PCC usa per stimare le perdite di carbone un modello empirico che ha proposto sia nel 2007 che nel 2019 è basato su relazioni lineari l'approccio statistico usa invece semplicemente i numeri statistici più ne abbiamo meglio è l'esempio sono i big data il machine learning l'artificial intelligence in questo caso è la statistica che ci aiuta a vedere dei trend e a vedere degli schemi all'interno di questi numerosi dati abbiamo i pro-i come vi ho già introdotto nella precedente diapositiva i modelli biofisici di processo cioè noi conosciamo un determinato fenomeno biologico l'abbiamo studiato in laboratorio in campo lo trasformiamo questa conoscenza in equazioni matematiche o anche in relazioni logiche e utilizziamo questa conoscenza in cui possono essere inseriti il clima il tipo di suolo eccetera la utilizziamo per prevedere l'influenza di fattori biologici fisici su un sistema complesso come quello del suolo la scelta dell'approccio è importante perché dipende da che cosa il livello 1 il livello 1 è quello di base ed è usato quando abbiamo una disponibilità minima di dati storici di clima suolo e cultura con tutti i dati correlati ovviamente è il limite di questo livello 1 che di fatto corrisponde a quello che si usa per la FCC è che i cambiamenti del carbone sono lineari che il carbone organico viene considerato come un unicum e non si considera nel pool e che spesso i pochi dati disponibili con cui sono stati messi a punto i fattori di emissione sono stati creati normalmente in alcuni paesi europei e negli Stati Uniti quindi non sempre sono applicabili nelle nostre realtà operative nel livello 2 invece sono disponibili dei dati storici quindi clima suolo sistemi culturali uso del suolo rese gestione culturale eccetera a livello locale e nazionale quindi vedete qua passiamo da dati diciamo globali a dati locali e nazionali e le stime vengono prodotte con modelli basati fisicamente quindi simulano solo però le dinamiche del suolo questo è il livello 2 che è anche corrispondente diciamo un tire 2 e in questo caso il limite è che non vengono simulate le crescite delle piante quindi questo l'input di carbonio dalla vegetazione viene stimato e in genere questo tipo di modelli stima solo la dinamica del carbonio e le emissioni che quantifica sono quelle di CO2 e basta e gli aggrega serra non sono considerati il livello 3 che è quello anche considerato tire 3 diciamo è un livello in cui noi abbiamo dati storici a livello locale e nazionale come nel livello 2 però scusate che sono una parola però è basato sull'uso di modelli ecosistemici il modello ecosistemico simula anche la crescita delle culture simula l'idrologia del suolo simula diciamo tutto l'ecosistema e quindi in questo caso è ovvio anche le uscite del modello sono molto più precise però il limite di questi modelli è che richiedono dei dati georeferenziati complessi su suolo clima uso del suolo e anche una notevole esperienza e capacità dell'operatore del ricercatore o di chi lo utilizza per la calibrazione e la RAM del modello stesso quindi come possiamo fare a scegliere il modello migliore per la nostra situazione ecco dobbiamo considerare i dati disponibili e vi dico anche il livello di competenza di chiusa competenza di esperienza eccetera e il livello di complessità dei modelli come vedete quando non ci sono dati possono comunque essere fatte delle stime utilizzando sia la TCC o anche delle equazioni di primo grado se uno ha delle relazioni che ha misurato già nel proprio campo le può applicare a un livello più alto con una disponibilità di dati media quindi siamo a livello di complessità 2 ci sono dei modelli molto interessanti molto usati che danno dei risultati ottimi noi utilizziamo Roxy e devo dire che Roxy tra i modelli proposti diciamo nel Tire 2 è sicuramente quello più utilizzato nel mondo ormai e in tanti paesi viene usato anche per la baseline dei crediti di carbonio o per costruire la baseline del carbonio organico nei suoli considerate che anche a livello di EJP Soil nel progetto Carbosec cui il TREA partecipa io sono responsabile proprio per la parte della modellizzazione stiamo creando un toolbox che poi verrà messo a disposizione di tutti perché l'abbiamo costruito su R e questo toolbox è basato su Roxy quindi diciamo anche a livello europeo diventerà il modello di riferimento esistono poi dei modelli fantastici Stix Ceres Apsim Epic che insomma noi a CREA abbiamo usato dei SENT sono dei modelli veramente potenti che simulano tutto lo scibile sul suolo che vi danno le emissioni anche di metano di protossido ad azoto eccetera però richiedono una grande disponibilità di dati e una grande competenza da parte dell'operatore vi dico che per imparare a usare Epic un anno non è sufficiente per imparare ad usarlo bene ci vuole veramente tanto tempo noi ci abbiamo speso intere giornate io Claudia e Chiara ad imparare ad usarlo decentemente e qui la panoramica questa ve la lascio a futura memoria a dei modelli più comuni qui vedete il modello la scala spaziale a cui questi modelli possono essere applicati e i dati richiesti da ciascun modello come vedete il modello ecosistemico è quello che ha la lista più lunga di dati ma comunque anche i modelli di processo sul suolo sono abbastanza importanti e qui in maniera molto semplificata per le stime nazionali possono essere usate tutte le tre tipologie tutti e tre i livelli di modelli per esempio per comparare le pratiche di gestione non ha senso usare l'equazione dell'IPCC perché l'equazione dell'IPCC è molto poco discriminante nei confronti delle pratiche agricole ottimizzazione dei servizi ecosistemici non possono cioè non sono affidabili i modelli diciamo utilizzati livello 1 e livello 2 scenari di cambiamento climatico è necessario usare il livello 3 perché il cambiamento climatico influenzere anche la crescita delle colture quindi è ovvio che se noi utilizziamo modelli diciamo di livello 2 a meno che non abbiamo dei dati interessanti da utilizzare magari meglio di no per il life cycle assessment il livello 1 non è previsto e sono previsti livello 2 e livello 3 per la condizionalità per esempio questi sono i suggerimenti della FAO sarebbe meglio utilizzare il livello 3 per la scaling tutte le elaborazioni fatte con i modelli possono essere diciamo rese a una scala superiore e per la valutazione aziendale diciamo che invece è l'inverso ovvero fanno meglio il livello 1 del 2 e 3 che addirittura non ha proposto qual è il procedimento che usiamo per la stima del sequestro di carbonio ed emissione prima di tutto la raccolta dei dati la raccolta dei dati è sempre una cosa importante da fare perché ci servono dati di suolo il clima uso del suolo e gestione per unità omogenea l'armonizzazione di questi dati e controllo della loro qualità dopodiché c'è l'inizializzazione e la parametrizzazione del modello per l'inizializzazione intendiamo la stima dei dati iniziali di carbonio di tutti i dati del suolo insomma carbonio in particolare la parametrizzazione invece riguarda il fatto che si cambino alcune delle equazioni interne del modello per renderlo più rispondente alla situazione in cui lavoriamo parametrizzazione che deve essere fatta sempre con molta attenzione e cautela e infine la validazione su dati misurati poi abbiamo l'istituzione o run del modello l'analisi dei risultati chiamati diciamo in gergo modellistico gli output e la preparazione poi di tabelle grafiche mappe quindi l'interpretazione dei risultati dove andare a reperire questi dati per quanto riguarda i cambiamenti climatici i dati le nostre regioni italiane hanno le loro stazioni e quindi possono usare i dati reperiti in regione però per quanto riguarda i cambiamenti climatici esiste un database costruito dall'agriforecast e si possono prendere i dati qualora questi non fossero disponibili a livello territoriale questi sono già stati spazializzati analizzati e quindi l'agriforecast è una risorsa tra l'altro qui trovate anche le simulazioni delle rese di alcune culture in particolare del frumento devo dire che sono tante cose e questo non ci interessa ecco qua arriviamo a un problema un pochino più come a noi servono le rese per calcolare i carbon input quando usiamo i modelli di livello 2 quindi e ci servono anche nel modello 3 per validare gli output del modello anche quando usiamo un modello ecosistemico la validazione viene fatta sulle rese quindi vengono usate per calcolare gli apporti del carbone al suolo per tutti quei modelli che non simulano la crescita delle culture quindi livello 3 validazione livello 2 apporto di carbone al suolo in genere sono tenuti da statistiche magari sarebbe interessante avere dati più puntuali per esempio quelle dei quadri di campagna che riportano penso anche le rese un altro fattore diciamo delicato nella raccolta dei dati è la successione delle culture sono stati messi negli ultimi anni numerosi strumenti per monitorare la successione delle culture sia nello spazio che nel tempo quindi se ci sono culture singole consociazioni o nel tempo monoculture rotazioni culture multiche e culture naturalmente permanenti esistono diversi strumenti chiave foto aeree immagini satellitali misure dirette al suolo ovviamente non dimentichiamo questo e le metodologie sono censimenti indagini sul terreno le interpretazioni dell'ortofoto e delle osservazioni satellitari quando si lavora a livello diciamo geografico ampio è chiaro che tutti questi dati vanno raccolti per tutto il territorio in cui noi vogliamo lavorare e possibilmente per un tempo abbastanza lungo se possibile per poter fare le nostre dotazioni i dati possono essere disponibili anche dalle agenzie di pagamento quindi abbiamo i sistemi integrati di amministrazione e controllo di identificazione delle particelle agricole i famosi LPIS a livello di particella catastale addirittura i controlli SPOT e la richiesta di sussidi da parte delle aziende agricole ovviamente per una regione questi dati forse sono più disponibili per noi ricercatori è quasi impossibile accedere a questi dati non sono messi a nostra disposizione perché sono considerati e sono probabilmente dei dati sensibili e quindi noi spesso siamo costretti a fare come diciamo noi i cricettini nella ruota per cercare di raccogliere questi dati in maniera indiretta però sarebbero fondamentali e qua vediamo quelle che sono la gestione delle culture lavorazioni locazioni fertilizzazione irrigazione gestione dei residui eccetera che sono veramente le informazioni più difficili da reperire infatti le ACS cioè le information system riguardano solo le aziende che richiedono il sussidi pat sono presenti i dati sulla vendita dei fertilizzanti che sono aggregati e non sono per azienda l'adozione di pratiche di lavorazione conservativa non è sempre riportata non è sempre reperibile i volumi irrigui spesso non sono effettivamente dati non sempre sono disponibili la gestione dei residui ugualmente perché può anche variare di anno in anno a seconda della qualità della quantità degli residui eccetera quindi questo è un vero lavoro da detective cioè andare a reperire queste informazioni è uno dei lavori che ci ha impegnato di più quando abbiamo fatto l'attività che ora vi illustrerà la mia collega che riguarda appunto l'applicazione di una nostra metodologia che proponiamo anche alle regioni e siamo anche disposti a fare dei corsi in cui ci confrontiamo perché noi possiamo parlarvi del modello ma certamente per quanto riguarda i dati voi avete e anche per quanto riguarda la parte geografica avete certamente molta più esperienza di noi però vi raccontiamo come con tutte le difficoltà che vi ho distrato sopra noi siamo riusciti ad aggiornare la diciamo la la quantificazione del carbonio organico in un'area nel tavoliere della Puglia portandolo da al 94 insomma quando erano stati fatti i rilievi fino al 2004 e Costanza vi racconterà come siamo riusciti a fare e quali quali metodologie abbiamo usato quindi lascio la parola a Costanza grazie grazie sono un appendice adesso è il suo lab Andre Neli l'ultima a te io non ho la prima ma attacco direttamente ecco allora come introdotta dalla collega Roberta Farina vi illustrerò un esempio di applicazione del modello ROTC a scala provinciale come si è piuttosto allora il CREA ha messo a punto questa nuova metodologia per implementare un modello biofisico che è tipicamente a scala puntuale rappresentato da ROTC interfacciandosi con una serie di banche dati nazionali che sono state preventivamente organizzate su strati informativi spazializzate adottando opportuni algoritmi statistici brevissimamente lo giuro due principi sul modello per chi non lo conoscesse il metodo è il modello estremamente semplice non impiega anni ecco per utilizzarlo richiede dati facili da reperire per quanto riguarda le caratteristiche pedologiche se abbiamo la disponibilità direttamente delle costanti idrologiche capacità di campo e punto di appassimento bene altrimenti il modello stima partendo dai dati tessiturali le costanti idrologiche quindi abbiamo risolto dati tessiturali la valca density e il contenuto del carbonio nell'orizzonte 030 poi convertito in stock attraverso tenendo conto della presenza dello scheletro e della valca density per quanto riguarda i dati climatici sono necessarie misure cioè dati di precipitazione temperature e vaca traspirazione a scala mensile anno per anno e poi per l'arco temporale in cui si vuole fare la simulazione l'interazione tra queste due dataset consente di effettuare un bilancio idrico semplicissimo bucket quindi il serbatoio idrico tra 0 e 30 cm si rende e si svuote nell'arco dei mesi e il livello del contenuto idrico viaggia tra il wilting point e la capacità di campo estremamente semplice sappiamo che il suolo può andare anche al di sotto della capacità di campo al di sopra della capacità di campo ma anche al di sotto delle wilting point però diciamo visto che il modello è a scala mensile queste assunzioni sono adeguate l'altra fonte di dati è quella correlata alla cultura e alla gestione della cultura stessa questo è il punto nevralgico come ha detto la collega perché qui c'è il clou del carbon input la cultura e la gestione mi dice la quantità di carbonio che entra nel sistema e la sua qualità cioè a seconda della cultura e dei residui se ho delle cover crop o meno io ho qualità e quantità diverse di carbonio che entrano nel sistema quel rapporto che ho indicato di PM e di PM praticamente ti dice com'è questo carbonio che entra nel sistema com'è questa sostanza organica facilmente degradabile o no tipicamente per i seminati il rapporto si attesta su 1,44 vuol dire 60% facilmente degradabile e il rimanente più resistente questo è il risultato il risultato che viene e l'impianto che viene poi al campo questo però non è il risultato qualità il risultato il carbonio entra nel suolo che destino ha il destino cioè il tasso di mineralizzazione di trasformazione dipende dall'umidità del suolo dalla temperatura che influenza sulla velocità delle cinematiche e dal contenuto d'argilla che è responsabile della mobilizzazione della trasformazione della sostanza organica in anilide parventa quindi partiamo ogni pool ripieno di PM si scompone in sotto pool CO2 esce dal sistema mentre la frazione umificata e la biomassa microbica va incontro a successive trasformazioni ma rimangono nel sistema quindi alla fine facciamo dopo un anno lo stock del carbonio presente nel suolo dipende dalla quantità della frazione sotto forma di PM di PM residua più la frazione complessiva umificata e la biomassa microbica la scioglie è andata via però allora quindi è fantastico cioè molto semplicemente restituisce per ogni sito a ogni cadenza temporale richiesta il contenuto del carbonio nell'intervallo 0,30 la quantificazione dei dati di carbonica ed esegue un semplice bilancio del carbonio dove le entrate sono i carbonipote e le emissioni sono quelle di centra ora chiaramente se ho suoli diversi climi diversi culture gestioni diverse la cosa diventa complessa perché ho da fare singoli run quindi devo moltiplicare questi fattori e quindi diventa non perseguibile a una scala territoriale vasta o quando mi è richiesto di fare degli scenari ecco quindi che il CREAA di Roma ha messo a punto un tool che è allestito all'interno di una macchina virtuale in grado praticamente il modello è stato trasformato in linguaggio Fortran e riesce ad interfacciarsi simultaneamente con banche dati diverse in modo tale da poter eseguire molteplici run contemporaneamente questa è la macchina virtuale allestita su semplice pc all'interno della quale viene installato il programma e caricati le diverse fonti dati quindi abbiamo i dati dei suoli i dati climatici sia di lungo periodo che dei singoli anni ma anche ho la descrizione del tipo di carbon cioè la quantificazione del carbon per ogni cultura presente e ora vediamo l'applicazione per la provincia di Foggia abbiamo come già anticipato utilizzato dati climatici facilmente scaricabili il su delle griglie con una scala 25 km per 25 quindi sono stati scaricati i dati dal 94 annualmente fino al 2013 e redatto il bilancio idrico quindi scaricato le piogge le temperature e il vapo traspirazione in cielo anno per anno c'è l'apertura poi avevamo la disponibilità di 280 profili i dati analitici si riferivano a 0,30 centimetri quindi dati tessiturali bulk density quindi attraverso le funzioni sono state ricavate le costanti idrologiche e misurato lo stock del carbone al tempo di 0 qui ecco il lavoro grosso è stato fatto per ricostruire le sequenze culturali e associarvi anche delle ipotetiche gestioni avevamo la disponibilità nella nella zona di 6827 parcelle come iniziare tutte queste informazioni lo schema procedurale è stato questo ve l'inteso potevamo inizialmente procedere in questo modo bene io ho 280 profili lì sono sicura di conoscere il suolo potevo semplicemente associare la sequenza culturale e la gestione ai 280 no non mi spostavo non è che dovevo fare tanti sforzi però cosa succedeva mi trovavo di fronte 280 punti in tutto quell'areale e poi dovevo trovare il sistema per spazializzare bene però dal conto mio cosa avevo una macchina virtuale che mi consentiva di fare molteplici RAM e ho detto perché limitarmi a fare 280 RAM allora supero il problema spazializzo sabbia argilla e carbonio a partire dai 280 profili su tutta l'areale utilizzando algoritmi e procedure geostatistiche ad hoc in questo modo avevo tutta l'areale coperta di informazione pedologica ho sovrapposto quindi 6.827 per cento a questo punto i RAM erano su 6.827 per cento la griglia climatica non era un problema c'è un'altra scala 25 chilometri va bene quindi io facevo girare il modello roti sì anno per anno su 6.827 parcelle altro cioè un altro tipo di lavoro anche quando una cosa è spazializzare parteglia da 280 punti un'altra cosa da 6.827 quindi su 6.827 parcelle avevo la restituzione dello stock del carbonio anno per anno e il quantitativo di emissione e questo mi consentiva di avere maggior numero di punti di controllo perché c'errovo su 6.820 ora non è che l'ho rifatto su tutti i 6.800 a spot e di mappare con una maggiore affidabilità il risultato finale del carbonio quindi la sequenza della procedura è stata innanzitutto ora qui sembra molto facile io sono arrivata penultimo ho trovato il lavoro quello è fatto però i miei colleghi cosa hanno fatto innanzitutto si sono posti il problema di armonizzare i dati di partenza relative alle varie dati sia pedologici culturali e tutto poi è stata fatta la simulazione di rotissi modalità batch batch cosa vuol dire costruisco delle banche dati a monte e poi semplicemente vengono fatte le run in automatico ora non siamo bravi come voi che poi il sistema mi riaggiorna no rimane così poi ho utilizzato degli algoritmi empiriche base in modo tale da spazializzare non solo i dati di partenza ma anche nel risultato finale dello stock del carbone quindi del 1994 2004 e del 2013 questo ha consentito di determinare il delta del carbone che poi diviso per gli anni considerati mi dà una stima del potenziale di sequestro del carbone per ogni sequenza e gestione culturali e tipologia di fuoco quindi rotissi tool e in futuro anche quello che verrà messo appunto all'interno del progetto carbosec ha enormi potenzialità per edigere delle valutazioni sulla dinamica del carbone a scala territoriale tuttavia necessita di un'adeguata copertura informativa che sia affidabile a livello nazionale quindi rientra il solito assolo i dati sono armonizzati per quanto riguarda il suolo i dati analitici del suolo sono aggiornati li possiamo far convergere specialmente per il carbonio a una stessa baseline questo è ce la cantiamo ce la suoniamo ed infine abbiamo sempre il problema di ricostruire in modo affidato accurato sia la cultura presente ma anche la gestione perché intendiamoci questo è il dato di input che agisce in duplice modo mi dice quanta roba entra e la qualità della roba che entra dentro grazie siamo in ritardo un'ora piccola piccola postina questo è un lavoro già pubblicato su agricoltore ecosistema e ora stiamo andando avanti con carbosec e faremo un nuovo un avanzamento perché i metodi di digital soil mapping nel frattempo si sono evoluti perché questo è una cosa già di 10 anni fa è molto interessante e stiamo andando avanti appunto che sarà frutto dell'attività di benchmarking fatta al carbosec di vari modelli qual è il problema l'unico problema è capire come l'errore geostatistico spaziale si diciamo si interferisca con l'errore modellistico perché praticamente noi mettendo insieme le due cose dobbiamo capire questi due errori come in qualche modo si combinano se si moltiplicano se no quindi ci sono varie prove di perciati proprio per capire questo aspetto quindi probabilmente andremo avanti con un'ulteriore pubblicazione su questo fatto grazie a Rosario per la postilla adesso passiamo dal potenziale di sequestro alla carta degli stock del carbonio di sole d'Italia Maria Fantapiege è qua e ridiamo la parola grazie grazie dunque questo lavoro che vi presento come vedete ho inserito tutti i nomi io lo presento io ma perché diciamo ho coordinato insieme a Edoardo Costantini l'attività ormai diversi anni fa ma ha coinvolto tutte le persone che qui vedete segnate insomma di diverse regioni d'Italia oltre al CNR e Ispra allora innanzitutto vi faccio un anticipo su quella che era la condizione prima questa non è la carta appunto della fatta tuttissima ma quella che già avevamo noi prodotto interamente al crema della nostra banca dati infatti vedete che gli autori siamo io Giovanni Dabatti e Giovanni Costantini quindi avevamo già prodotto una carta in realtà tre carte con livello di carbonio su queste tre decadi con un metodo che vi verrò a spiegare ma ve la volevo presentare per parlare principalmente delle basi su cui si fonda la mappatura del carbone organico che ovviamente in metodo di spazializzazione ce ne sono dei più vari cioè statistici statistici eccetera in questo caso si è applicato una redazione di minerale multipla la cosa interessante è che abbiamo fatto uno studio precedente per capire come il carbone organico viene influenzato da determinati parametri molto interessanti sono per esempio il regime termometrico dove si vede chiaramente un effetto molto molto statisticamente importante e il regime eutometrico anche quello molto importante e si vede anche come ci sia un effetto predominante dell'uso del suolo dove c'è per grandi gruppi di uso le aree agricole i pascoli e i boschi hanno sicuramente dei livelli di contenuzione termone organico completamente diversi l'altra questione abbiamo visto è che nelle tre decadi si è avuto un primo decremento con un piccolo incremento fra la seconda e la testa che fa ben sperare insomma ma ecco l'importante di questa slide è per farvi vedere che in un sistema di regiazione lineare multipla diciamo l'effetto dei vari parametri che vai a investigare è esplicito ci sono proprio dei coefficienti dove tu vedi parametro per parametro l'infetto più o meno quindi ha il suo motivo di essere di esistere quindi cosa è successo sulla base del fatto che CREA comunque aveva la banca dati e che per anni insomma aveva fatto un'attività di coordinamento per la relazione della banca dati d'Italia al momento in cui la FAO ha lanciato appunto la prima iniziativa di mappatura globale che è quella del contenuto dello stock carbonio organico del Top Soil il ministero ha indicato il CREA come organismo che coordinasse l'attività e qui c'è l'incarico affidato a Costantini allora la differenza rispetto al precedente articolo che vi ho fatto vedere dove eravamo noi con la nostra banca dati è che in questo caso invece abbiamo coordinato non dico tutte le regioni italiane ma una gran parte e questo è stato diciamo l'apporto positivo di questa attività per fare questo appunto ci sono state due questioni fondamentali da affrontare una la condivisione dei dati per cui abbiamo fatto degli accordi i famosi accordi di cui parlava Rosario ieri in questo caso erano specifici qui alla redazione di questa carta quindi noi abbiamo condiviso delle banche dati con lo specifico in carico di usarle per questa realizzazione e poi abbiamo anche messo in piedi un sistema per uno scambio di dati diciamo più standard per evitare errori di unità di misura e quant'altro ecco quindi diciamo qui per presentarvi tutto il processo se uno lavora con i propri dati se la canta se la gioca è falso metodo in questo caso c'è stato tutto un lavoro precedente per cui i dati sono stati raccolti si è stato messo in piedi appunto il suo sistema di scambio dati uniforme sono stati controllati dopo di che sono stati anche armonizzati poi vi farò vedere e come ultima tappa c'è stata appunto quella della realizzazione fisica del sistema di mappatura quindi digitale mapping per cui abbiamo collaborato anche con CNR e molto molto importante per noi è stata anche la validazione perché abbiamo prodotto una prima realizzazione che abbiamo sottoposto ai servizi del suorio regionali dopo di che abbiamo fatto anche degli aggiustamenti e fatto ulteriori elaborazioni perché in realtà nel digital mapping il metodo può essere anche leggermente cambiato e la realizzazione che produci la puoi anche cambiare cambiando certi parametri del sistema quindi fare una validazione con i servizi legionari è stata veramente molto importante e allora riprendendo le varie fasi noi abbiamo raccolto questi dataset ma qui adesso voi vedete quelli poi effettivamente usati no? quello che è stato fatto è una armonizzazione diciamo numerica per numero di certi per chilometro quadrato perché in realtà la nostra banca dati che teniamo noi a Firenze siamo diciamo abbiamo insieme tra Firenze e Roma in realtà ha un tipo di dati che si dice cluster perché praticamente a seconda di dove sono stati fatti i rilievi di quanti dati abbiamo raccolto ci sono le zone molto più coperte altre molto meno no? e quindi lo sforzo stato fatto qui è quello di armonizzare la copertura cioè praticamente ne potevamo dare di più in realtà noi ci siamo come dei frattenuti e abbiamo dato una uniformità di copertura a livello del territorio italiano e ecco l'importante è anche l'intervallo temporale che abbiamo scelto insieme appunto concordando con delle regioni dal 1990 al 2013 ecco parlando di armonizzazione abbiamo applicato questi metodi per la come dire il famoso transfer function di cui vi parlavo ieri per la trasformazione rispetto a diversi metodi analitici utilizzati quindi vi devo dire che in realtà per molti dati purtroppo l'informazione sul metodo adottato non c'è e quindi questo è stato un po' un problema abbiamo dovuto fare un po' delle assunzioni sul metodo adottato a seconda del periodo eto appunto ecco qui c'è un po' di smembramento della slide vedo ma comunque quello che riporta qua è che allora siccome si trattava di una carta dello stock come giustamente ci ha detto Costanza nel calcolo del carbostock non è sufficiente il contenuto che può un organico in sé ma va calcolato anche sulla base di densità apparente e contenuto di scheletro e quindi la tessitura quindi praticamente soprattutto per la bulk density dove si sa che i dati disponibili e di qualità sono abbastanza scarsi sono state calibrate delle funzioni di pedotransfer function quindi di trasferimento che sono diverse dalle transfer function perché le transfer function è la stessa analisi fatta con metodi diversi le pedotransfer sono determinare un parametro da altri parametri analitici e quindi nel caso della bulk density è stato determinato sulla base di praticamente il contenuto di carbone organico e il contenuto di argilla e queste transfer function che ha elaborato Fabrizio Ungaro insieme con Giovanni Labate sostanzialmente anche altri colleghi di Lapignozzi che ha elaborato Sergio sì praticamente sono state fatte separatamente perché anche per le grime sì il ricercatore di Vera sì sono state fatte separatamente per ogni sole region e anche per diversi usi del suolo allora qui questo slide è pieno di roba quindi non entro in tutti i dettagli ma era giusto per dirvi che poi nel digital cell mapping in realtà questo io mi ricordo perché l'ho fatto direttamente io praticamente in realtà abbiamo applicato per generalmente tutta l'Italia un metodo di neural network mentre per la regione del Po solo per la regione del Po è stata attuata la general linear regression e questo perché proprio per quel discorso che vi dicevo prima avevo fatto la mappa su tutta Italia con neural network l'abbiamo sottoposta ai regionali per quanto riguarda la regione del Po ci hanno detto non ci piace e quindi abbiamo rielaborato sulla regione del Po con un altro metodo e quindi la carta prodotta ha un'integrazione tra le due ecco e questo è proprio per dirvi questo perché si sta ragionando tanto proprio anche adesso nel GP soil come armonizzare non solamente i dati perché io vi ho parlato dell'armonizzazione dei metodi ma anche le mostratologie e poi di mappatura perché anche quando si applica il digital cell mapping a seconda delle covariate gli sceldi poi avere un risultato diverso quello che è importante qua che io ho presentato e in Greco perché l'ho presentato a colleghi europei era appunto il fatto che noi abbiamo adottato per quella carta un metodo diverso per l'Italia in sé e per la solution di quella della comuna padana e nonostante appunto che le covariate siano diverse il metodo di spazializzazione è diverso poi alla fine nel risultato finale questo effetto di confine non è così preponderante cioè il risultato è buono quindi questo per dire che è necessario anche fare dei test sul fatto di poter applicare anche metodi diversi in zone diverse e vedere cosa succede in termini di accuratezza e di effetti di confine che è un'attività che stiamo portando avanti nel GP Soli a livello europeo ecco questo è il risultato finale è pubblico perché praticamente a livello di FAO la nostra carta poi è stata messa insieme a tutti gli altri paesi che hanno partecipato quindi è online sul sito della FAO lo potete scaricare come banca dati sul Zenodo perché l'abbiamo caricata sul Zenodo e questo per farvi vedere invece rispetto alle carte di stock sia quella prodotta noi nel 2010 quella attualmente disponibile su il grid a un chilometro in realtà c'è anche su il grid ad altre scale ma qui in questo caso su quella al chilometro che comunque diciamo i parametri di accuratezza sono ben diversi e soprattutto per quanto riguarda l'index of agreement è molto migliore questo qui il livello di carbostop come vedete è molto diverso il livello medio il min error è molto più basso nel nostro caso e anche il rotmiss per error è molto più basso e questo è tutto allora dall'Italia di nuovo al primonte con Federico Menzio e Fabio Petrella sono di nuovo qua di illustrarci la valutazione degli stock e degli incrementi di carbonio nei suoli del Piemonte anche stavolta io ho il convito di fare un po' un'introduzione a quello che poi dirà Federico per lo specifico le varie redazioni della carta degli stock del carbonio e dei suoli del Piemonte e spiegarvi che in realtà Ipla che non è solo suolo si occupa anche di foreste si occupa di biomasse e quindi tutto lo studio che noi abbiamo incominciato a fare del carbonio parte da un po' più lontano parte proprio da quello di Chioti in quanto Ipla ha incominciato a monitorare i flussi di carbonio in foresta inserendosi nei progetti nazionali e internazionali quindi inserendosi nei progetti che c'erano già a livello europeo e nazionale essenzialmente facendo riferimento all'università della Tusa al professor Valentini che è stato il primo a portare in Italia i metodi della decoarenza e quindi diciamo che noi il sottoscritto è stato coinvolto in questo discorso incaricato da Ipla da regione Piemonte abbiamo portato l'edico variance in Piemonte al parco della Mandia e ha cominciato a misurare i flussi in foresta quindi siamo però rimasti coinvolti in quelli che erano i progetti allora nazionali e quindi diciamo si parlava già dei piani di sviluppo orale ancora adesso il contesto dei piani qui c'è questo slide che spiega come sono contestualizzati del sviluppo in un discorso più generale di registro del carbonio quindi anche del bilancio dei flussi anche a livello nazionale perché comunque il ministero deve rispondere di questo bilancio ai fini dell'accounting di carbonio quindi quando si parla di credit carbonio in realtà si parte dal protocollo di Fiotto si parte da molto più indietro e sappiamo bene che i conteggi del carbonio nel suolo sono stati un po' messi da parte per tutta una serie di regioni che noi vedo lo sappiamo anche bene per cui si può fare anche credito con lo spazio di carbonio e adesso in agricoltura questo discorso è attuale però al tempo si facevano i conti perché era un discorso nazionale di alcantino nazionale per il CAP quindi per il discorso della compensazione che poteva venire dall'incremento del carbonio nelle biomasse forestali Ipla ha incominciato a lavorare in questo senso per anche testare i modelli che venivano usati dal ministero in particolare il modello Forest e quindi abbiamo incominciato a utilizzare i nostri archivi i nostri inventari regionali confrontarli con quelli nazionali e chiaramente il carbonio del suolo ha incominciato a venire fuori di lì perché c'erano anche gli inventari nazionali con dei dati di carbonio che servivano poi per il modello Forest che serviva per questi accounting e qual è? ah si muore ah ok il sistema questo possiamo veloce e appunto sono degli esempi per quanto riguarda il discorso dell'accounting e il fatto che appunto Ipla mette in campo non solo le sue conoscenze pedologiche ma anche quelle forestali che sono servite anche per per appunto testare il modello e valutarlo perché inizialmente l'Italia aveva un po' perso il treno di queste compensazioni perché erano state fatte d'ufficio poi c'è stato una grande recupero grazie alla Tuccia e quindi abbiamo cominciato a farci valere e quindi Ipla ha contribuito a testare il modello e quindi siamo andati avanti a monitorare il carbonio essenzialmente foresta quindi altri la regione che monti ci ha poi incaricato queste qui sono considerazioni generali metodologiche che credo voi conoscete abbastanza bene qui il settore l'UVCF emissioni e assorbimenti a livello nazionale quindi ci sono questi conteggi in cui noi entriamo come Ipla per quanto riguarda il discorso appunto calcolo delle biomasse e del carbonio e validare anche il modello perché noi abbiamo i nostri dati della carta pedologica in foresta ne abbiamo forse un po' meno che in pianura perché abbiamo cominciato a fare i 50.000 quindi con i 50.000 si hanno più dati in pianura in collina in foresta a montagne abbiamo meno dati però sono serviti per validare questi conteggi poi sull'articolo l'articolo l'articolo l'intra 3 e 3 e 4 noi ci stiamo lavorando per il discorso dei crediti e adesso anche il problem management è diventato più importante di quanto fosse 20 anni fa quando abbiamo cominciato a lavorare con le libovali questi sono sempre discorsi generali in cui noi siamo rimasti coinvolti inizialmente qui c'è il discorso dei reference level dei crediti qui a livello a scala nazionale in scala europea di bilancio mondiale però chiaramente poi c'è i margini di credito che rimangono una volta che sono state negoziate le quote nazionali per il cosiddetto mercato volontario quindi la regione Piemonte ha incaricato IPLA di lavorare su queste tematiche e quindi abbiamo cominciato a approfondire il discorso carbonio e questa è un po' la contestualizzazione che volevo fare quindi vedete che tra gli obiettivi c'è anche la creazione del mercato volontario dei crediti noi l'abbiamo fatto ovviamente sopra suolo però ho tenuto conto che noi abbiamo voluto inserire nella DGR che regola per il Piemonte il mercato dei crediti la possibilità di conteggiare il carbonio anche nel suolo perché secondo i PCC sono 5 le frazioni e quindi se uno vuole anche certificare il suolo lo può fare chiaramente è più complesso qui poi entra il discorso che oggi non c'è tempo di fare sulle certificazioni e sugli standard di certificazione forestali che sono FSC e BFC che propongono degli standard e a seconda poi anche della possibilità dei soldi a disposizione io posso andare anche a certificare l'incremento di carbonio del suolo se ne vale la pena se c'è di pepergatti o meno qui però esuliamo nel contesto di oggi però questi sono tutti i lavori che noi abbiamo sviluppato questa è la torre di Edico Arians faccio vedere meglio eccola qua in Parco della Mandria ha funzionato dal 2000 a 2010 e ha fornito dei dati che sono stati utili per validare gli altri dati che noi abbiamo assunto facendo progetti per esempio sulla servicoltura su incremento di carbonio per gli impianti di arboricoltura da legno per la 2080 e che sono anche dati che possono servire per testare dei modelli perché abbiamo gli incrementi nel tempo di carbonio nel suolo per esempio nell'arboricoltura da legno che è un'attività borderline tra foresta e agricoltura quindi già l'agricoltura è cominciato un po' avvicinarsi su questo poi abbiamo monitorato dei pioppeti anche queste sono attività diciamo sempre borderline a confine fra foresta e agricoltura quindi altri obiettivi c'è il discorso del lievo dato al protocollo di fiotto e fattori naturali capaci di sequestrare il CO2 appunto colture e foreste per attivare una migliore gestione ambientale del territorio regionale quindi politiche regionali questi sono i dati che vi dicevo anche qui abbiamo anche fatto dei confronti ci sono degli incrementi partendo da una conversione quindi cambio d'uso da risicolo suolo che quindi era depauperato a impianto di arboricoltura da legno quindi vedete che ci sono degli incrementi poi ci sono molti più dati io qui devo fare una carrellata velocissima però abbiamo fatto poi dei confronti molti più più siti di monitoraggio una dozzina in tutto il Piemonte sia arboricoltura da legno sia forestale poi abbiamo provato anche a lavorare su una filiera zootecnica low carbon cercando di fare delle compensazioni dei progetti diciamo in Italia non si possono fare progetti chioto di clean development auto mechanics perché si fanno tra paesi in via di sviluppo paesi avanzati industrializzati però si può utilizzare la 14064 la norma unis 14064 e quindi abbiamo provato a lavorare in agricoltura in un ambito hot dal punto di vista veramente critico quella della zootecnia con risultati non particolarmente diciamo incoraggianti anche se inizialmente era proprio l'allevatorio che ci aveva chiesto quindi su 100 ettari 10 ettari sarebbero dovuti diventare di cultura arborea poi ci ha ripensato ha pensato ha certificato il bilancio di carbonio quindi la carbon footprint ma poi dopo invece di compensare con questi 10 ettari finanziati dal PSR ha voluto lavorare sulla filiera corta perché produce Mangimi li produce insomma direttamente quindi le tempistiche di un impianto di cultura arborea sono più lunghe lui i soldi li vuole fare subito mi ha detto facciamo la filiera corta e lavoriamo su una certificazione diversa e quindi diciamo questo discorso qua che peraltro ecco queste sono le metodologie come abbiamo lavorato qua c'era c'è ancora credo il progetto dei distretti agricoli zootecnico forestali di Ismea ci siamo interfacciati poi mancavano i soldi per realizzare l'area pilota in quella in quell'azienda che altrimenti avremmo potuto comunque utilizzare indipendentemente dalla scelta dell'allevatore perché se c'era da creare un distretto zootecnico forestale in Piemonte i dati noi a quel punto ce li avevamo però Ismea non era in grado di finanziare l'area pilota e quindi Regione Piemonte per motivi diciamo di strategie politiche non ha voluto più di tanto sostenere questo discorso però diciamo che abbiamo una metodologia di lavoro dei dati anche di riferimento importanti per un esempio di un'azienda su Nicola ad alto impatto nelle zone di Villa Felletto Bottignasco ci sono quelle di alta intensità zootecnica simili a quelle che poi ci sono anche in Lombardia e in Emilia Romagna per cui Ismea per adesso è riuscito a fare dei distretti come si dice un po' piace vincere facili è riuscito a farli nel Lazio in Basilicata dove ci sono comunque degli allevamenti zootecnici estensivi invece in Pianura Padana ma insomma ci sono dei problemi detto questo gli obiettivi raggiunti li ho spiegati quindi le implementazioni di una rete di monitoraggio di stoppe di carbonio e la realizzazione di un inventario l'abbiamo fatto e poi abbiamo cominciato anche a lavorare sulle carte analisi controlli delle dinamiche del carbonio nel tempo qualcosa abbiamo chiaramente non c'è una rete vera e propria in Pianura però come vi dicevo abbiamo una rete di monitoraggio per esempio sull'arboricoltura d'aregno che è ormai la 2080 è finita quindi diciamo un po' si è fermato il tutto però ci sono parecchi dati e poi tutto il discorso del mercato del carbonio forestale e attualmente lo stiamo implementando anche nell'Urban Forestry e quindi le carte del carbonio vengono un po' fuori da questo grande concept qui vedete i nostri inventari forestali dove c'è anche il suolo e chiaramente ci sono le applicazioni con gli algoritmi Forest che vi dicevo che abbiamo validato con i nostri dati quindi questi sono gli aggiornamenti 2015 quindi per le foreste sappiamo tutto abbiamo le 5 frazioni PCC e poi qui abbiamo la cartografia di cui parlerà adesso Federico del carbon stock che abbiamo fatto con il CNR luci e ombre di questa applicazione che l'avranno spiegati in dettaglio adesso poi l'analisi del carbon stock le abbiamo fatte calcolo degli incrementi di carbonio idem analisi dei carbon stock dei suoli agrari piemontesi previsioni di incremento mediante modellizzazione una cosa potremmo fare con ROT però ovviamente abbiamo dovuto anticipare e percorrere i tempi di una modellizzazione perché dobbiamo dare esposte come è stato spiegato ampiamente prima a regione Piemonte quindi noi abbiamo fatto una carta del potenziale incremento di carbone sulla base dei nostri dati sull'uso sui dati dei volumi diversi insomma degli stock diversi di carbonio in funzione degli usi e delle ipotetici cambiamenti d'uso che si possono fare in funzione anche delle tipologie di suole ma questo poi Federico vi farà vedere la metodologia che abbiamo utilizzato implementazione di monitoraggio estensione del concetto di mercato ecco questo è un altro punto estremamente importante il mercato del carbonio nasce con lo spiegato 25 anni fa no? mercato obbligatorio mercato volontario però poi dopo insomma in certe aree in certe zone non c'è tripapargatti dal punto di vista del mercato solo del carbonio e si è incominciato a sviluppare il discorso dei servizi ecosistemici quindi è facile adesso valorizzare il carbonio perché esiste un mercato esiste una quotazione della tonnellata C2 equivalente non esiste una quotazione per la biodiversità quindi è un discorso più complicato però nel momento in cui uno standard per esempio in foresta di riferimento che non è solo che è la gestione sostenibile della foresta dove insieme alla appunto alla gestione sostenibile riesco anche a quantificare l'incremento di carbonio che è con la gestione sostenibile so anche e posso misurarlo con degli indici che incremento la biodiversità quindi quando vendo la tonnellata di CO2 equivalente con uno standard di riferimento PFC o FSC posso dire anche che sto dando una tonnellata di CO2 equivalente ma ti sto dando anche un incremento di biodiversità e quindi il valore economico sale quanto sale noi stiamo comunque abbiamo aperto con la regione Piemonte un tavolo uni dove stiamo adesso per uscire una trassa di riferimento che dà i primi diciamo metodologie per chi vuole accompagnare alla vendita di una tonnellata di CO2 equivalente anche un valore diciamo per adesso incorporato nella tonnellata di CO2 equivalente della biodiversità di tutti gli altri servizi no perché adesso no perché come c'è scritto qua stiamo lavorando anche sull'area urbana dove non c'è la vendita dei crediti diciamo statali perché sono soltanto le foreste che lo Stato se le ha accaparrate e quindi in area urbana posso vendere tutti i crediti prodotti da incrementi di carbonio e delle biomasse beh suolo in area urbana se abbiamo già dei grattacati fuori figuratevi nell'area urbana grazie di modelli bisognerebbe avere per misurare il carbonio nel suolo urbano però è una sfida a cui i pedologi non possono fuggire infatti ho visto che sono anche riferimenti poi degli indici nel monitoraggio alle aree urbane e il FLA sta lavorando stiamo gestendo iniziando a gestire i progetti per la regione Piemonte dove studiamo i suoli urbani e quindi il carbonio e i suoli urbani non si può scappare neanche la biodiversità in che modo e con che cosa mettiamo in relazione con la biodiversità vegetale animale micropica ci sono no sono indici di biodiversità che vengono usati in foresta quindi riferiti vegetali essenzialmente vegetali ma sì buon quindi questo detto tutto la chiuderei qui perché qui ci sono poi c'erano tutti i meccanismi del mercato del carbonio e qua c'è la situazione nazionale con le varie norme cui ho accennato questo è l'intento tra l'altro per il mercato volontario se non si attiva un mercato volontario serio in Italia adesso c'è la legge che istituisce il registro del carbonio l'Europa non raggiunge i suoi obiettivi nel 2050 di neutralità perché serve anche tutta la parte in più che arriva dal mercato volontario se il mercato obbligatorio non è sufficiente e i vincoli non sono sufficienti quindi questo è il nostro schema per quanto riguarda la generazione dei crediti in foresta e analogamente a questo stiamo varando una DGR per quanto riguarda i crediti extraforestation e questi sono i progetti che hanno già fornito dei crediti e questa è la quantificazione e questo è quello che stiamo facendo adesso grazie per l'attenzione mi posso permettere conoscendolo da 28 anni uno dei primi lavori è stata una modellizzazione con i suoli che era una breve introduzione meno male che era breve ho detto che mi posso permettere perché ci conosciamo da tanto tempo ma io spero molto più breve allora come come dicevamo ieri modelli per analisi di cartografia del carbonio nei suoli del Piemonte non ribadisco quello che ho detto ieri velocemente perché non c'era siamo un gruppo interdisciplinare ringrazio chi è lavoro e chi è lavorato fino adesso sul campo dei suoli interno come esterno ci inizia il laboratorio le colleghe su sala con la cartografia patrizia per la parte di sviluppo informatico e realmente tutti i pedologi più quelli che lavorano collateralmente con Maurizio e Nicoletta che avevano già tanti anni come dipendente adesso è nostra preziosa cultura i dati sempre quelli sono ma di lì non si scappa abbiamo fatto tre step il primo step è quello di un modello banale molto banale su base statistica quindi partendo da quei n punti di campionamento sono state fatte dell'analisi fisica sul carbonio e a base statistica semplicemente riportati i dati dei campionamenti a livello di unità pedologica quindi un po' lineare cioè non c'è nulla non c'è nessun modello in realtà dietro è semplicemente un'analisi statistica è stata fatta una normalizzazione dal dato top soil e sub soil e appunto è stata attribuita la media della quantità di carbonio di analisi di microfisiche e di analisi di laboratorio alle unità la carta di sinistra è la prima carta che vi dò una decina di anni fa la seconda invece è 2010 si è parlare un po' di più diciamo 13 la seconda invece è più recente 2022-2023 come vedete ci sono stati approfondimenti dal punto di vista dei campionamenti dell'analisi e ci dà un risultato con i colori più intensi più scuri di un aumento di carbonio questa è una carta semplicemente della capacità di sistema di carbonio in percentuale semplicemente nei suoi e lo stop di carbonio nei suoli escludendo ovviamente tutte le altre matrici quindi non abbiamo considerato l'uso del suolo ma è stato considerato temperatura evitraspirazione e basta quindi qui è proprio solo la quantità percentuale di carbonio nei suoli ovviamente ad esempio il primo errore che si nota tra virgolette che alcuni suoli nel 2022-2023 sono bianchi perché sono i mosquini non so e quindi sono le rocce d'altra parte di montagna che invece erano comunque state considerate statisticamente nel 2010 il dataset di partenza è lo stesso? il dataset di partenza è lo stesso allora il dataset come poligoni sì perché sono quasi perché sono le unità pedologiche al 250.000 i punti no i punti sono campionamenti fatti fino al 2010 e poi fino al 2021-2022 quindi c'è stato un aggiornamento statistico banalmente diciamo banalmente statistico che non ha considerato le altre matrici il secondo step invece è stato quello di lavorare a coaching di Firenze con Ungaro e non solo con Fabrizio con Maria è costante assolutamente sì ed è stato quello di applicare delle covariate e quindi altre matrici che non era più semplicemente la tipologia di suolo che era quella che noi avevamo fino a 2010 ma anche la carta ecopedologica le temperature mediannue e il dato riferito a cinque categorie di land use and cover quelle cinque categorie perché sono quelle che c'erano diciamo in bibliografia di IPCC con dei dati diciamo di capacità di di carbonio differenziati a seconda delle categorie per fare questo abbiamo non più operato sui poligoni perché ovviamente qui si trattava di mettere elementi poligonali perché c'eravamo sia per quanto riguarda i suoli sia per quanto riguarda l'epopedologico sia per quanto riguarda il use and cover ma ovviamente erano più isomogenei perché parliamo di strati diversi anche proprio dal punto di vista reale quindi suoli sovrasuolo e addirittura la temperatura avevamo invece del grigliato che non ha nulla che vedere con quindi che cosa si è fatto si è ridotto tutto il territorio a queste scelte di centometri una discretizzazione questa discretizzazione ha permesso di fare tutto il calcolo modellistico non più dal punto di vista geografico ma dal punto di vista semplicemente numerico perché a ogni cella venivano attribuiti i singoli valori per predominanza ovviamente perché all'interno di una singola cella poteva avere o un'unica coltura nel caso del bosco o un caso dell'urbano ma più facilmente in cieli a 100 metri a volte si trovavano tra o quattro diversi tipi di coltura perché abbiamo una parzializzazione anche questo da dire in territorio piemontese in particolare sulle colline che è molto frazionata noi abbiamo finato l'antologia che ha indultato una via per la cata dei carboni di stock di Italia a Piemonte ma qua non c'è nessuna grossa differenza per la magia perché 100 metri del taglio rispetto a quella esatto e quindi si è approfondito un motivo però sei andato a prendere direttamente il valore per la spazializzazione no no allora per quanto riguarda per quanto riguarda i suoli si è passati dalle unità quindi dalle fasi dominanti perché veramente la logica si va a prendere informazione culturale però no è stata fatta la validazione è stata fatta la validazione punti sono serviti validati come anche la anche la però lui dice il dato poligonale è il dato di unità e quindi è riferito diciamo in realtà non è alla fase in realtà è la media dei campionamenti all'interno di quell'unità dell'unità e non della delineazione quindi fondamentale ci sono varie cose da mettere a punto io ho già pensato al discorso affatto ieri ma anche a questo sulla poi la confrontabilità perché il digital preso il po ci sono mille tecniche in tutto ma il dato è di standardizzare la tecnica perché se uno usa la tecnica ma tiene dei risultati se ne fa standardizzare anche un po' e standardizzare i dati che uno prende cioè se prende la ideologia per essere uno strato che si ha confrontato le strutture se no te trovi se c'hai il tuo ecco di nuove variate diverse da una persona accanto trovi delle relazioni però le qualità sono le stesse a parità di metodo digital quindi c'è il metodo digital che può essere diversa poi le nuove variate che possono essere diverse le tipologie le lingue i dati origini con le stesse variate possono essere diverse infatti abbiamo fatto poi un ulteriore a confronto il metodo di aggancio ormai ora vi chiedo un passo indietro sul discorso del fatto che avete fatto la media o la moda dei rai di statistica ok questo questo è la media sì che poi l'avete utilizzato anche per il discorso rasta sensazionalmente per i suoni avrete normalizzato tanto il peso di rescia a seconda della numerosità campionaria no se io c'ho 4 o 50 è chiaro il valore di dare si deve anche su quello abbiamo usato la media pura e semplice ma pura e semplice media dei punti di campionamento sì infatti 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 ha un problema il problema può essere ad esempio dove ci sono dei suoli in particolare di montagna dove ci sono po' di campionamenti che quello può presentare un problema perché però siamo anche su suoli che sono a volte non suoli in alta montagna e qua sì questo è vero abbiamo fatto la pura media tra l'altro ribadisco per unità e non per delineazione quindi introduciamo un ulteriore errore perché fino a un certo punto è un errore ma è comunque una limitazione del metodo invece le celle per quanto riguarda il discorso del land cover no quello si è partiti dall'encover poligonale ridotto a celle di 20 metri come dicevo ieri che la cella più piccola funzionale è un calcolo perché si può scendere anche a 5 ma poi diventano croppe e sulla cella di 20 metri quindi vuol dire 25 celle all'interno di quella da 100 metri si è andata a prendere la moda quindi la cella da 100 metri non è il punto centrale come fanno tutti i software di modernizzazione ma è la moda di quello che c'è dentro che vuol dire 33, 33, 34 quando è il 34 che è derivato in parte da questo land cover allora in realtà questo lo abbiamo fatto dal corino in cover se non mi ricordo male vero? bravo quello arriva a dettaglio di particelle catastale perché con l'anagrafe agricola noi abbiamo la particella allora per quanto riguarda la parte agricola da anagrafe agricola abbiamo la coltura prevalente all'interno di particella che vuol dire lì se le parti esiste eh sì però esatto e lì c'è la coltura prevalente all'interno di particelle ovviamente su particelle molto grandi sballa un po' perché particelle molto grandi possono avere quattro colture dentro e lì si prende eh ma di nuovo è un criterio di prevalenza è online no no è online è pubblico no è pubblico sì ma il land cover Piemonte poi c'è l'anagrafe agricola che si è distaccati da te però in realtà sì però in realtà devo dire che allora il dato è comunque fatto da regione Piemonte cioè l'anagrafe agricola la tiene comunque a regione Piemonte non arpea il land cover che deriva da quello allora il land cover deriva in parte da quello dove c'è l'iscrizione dell'anagrafe agricola perché poi ci sono anche dei buchi deriva su quanto riguarda le foreste che è il dato su cui noi abbiamo più dati dal nostro rilievo del 2000 che è stato rivisto in 2016 che verrà adesso rivisto con i nuovi piani forestali e in parte qualche parte dove non c'è la copertura dell'uno e dell'altro da AGEA tra l'altro AGEA ha un refresh triennale quindi anche in ottica di prospettiva e di calcolo multitemporale è forse uno dei dati migliori è molto carente ovviamente sulla parte boschiva cioè zero però sulla parte agricola è molto dettagliato più dettagliato probabilmente del nostro dell'encover nostro noi abbiamo accesso tramite regione sì sì no è bene no no non è facile abbiamo avuto accesso al dato 2018 tramite tramite regione Piemonte quindi ci sono tre livelli diciamo e chi ha beh sì siamo fortunati oggettivamente siamo fortunati quindi l'encover diciamo abbiamo attenzione siamo fortunati ma siccome i dati sulla capacità di stog di carbonio dell'encover non è che ce ne siano tante bibliografie l'abbiamo ridotto a 5 classi per questo modello cioè abbiamo che sono colture permanenti colture annuali erbai e foreste e non suolo quindi in realtà questo modello funziona è scalabile sia in termini geografici sia in termini di dato però bisogna avere a monte diciamo tutta la parte bibliografica tutta la parte di analisi sulla capacità di stock della soprassuola e poi non tiene conto effettivamente di altre variabili tipo che sono indipendenti vabbè non tiene conto perché qui non lo abbiamo fatto in realtà qui c'è perché abbiamo tenuto anche conto della quota e delle precipitazioni che è il modello fatto con CNR quindi c'è anche quella cosa lì la cosa è che come poi si vede cioè da questa carta siamo ribaltato il dato a questo punto però per delineazione quindi non più solo perché è quello che dicevamo prima mentre l'unità può avere come dire la stessa tipologia di suolo e quindi praticamente la stessa capacità di stock ovviamente il soprassuolo no quindi per ogni unità può variare varia il soprassuolo e quindi sulla carta che vedete sulla destra è stato attribuito per media dei singoli pixel perché è un dato numerico quindi non abbiamo usato la moda perché non è un dato discreto è un dato numerico e nei decimali è stata fatta la media sui singoli pixel però all'interno della dimensione quindi la stessa unità potrebbe avere valori di carbon stock diversi a seconda ovviamente del soprassuolo della temperatura e della vuota il risultato è quello che vedete a destra che tende in alcuni casi a sovrastimare e in alcuni casi a sottostimare nel particolare abbiamo detto ieri siccome vigneti e frutteti noccioleti più che altro vigneti e noccioleti per noi ma penso anche per altre regioni tipo Emilia Romagna in particolare vigneti veneto vigneti su questo abbiamo poi fatto un ulteriore come dire affinamento scusate questo non c'è non c'è non c'è chiedo scusa che l'affinamento in realtà è questo del 2023 per cui su alcune zone è stato rivisto in termini di uso del suolo perché quei due usi del suolo che ho detto prima non sono ricompresi nel modello cioè sono annegati nel modello generale del colture permanenti che sottostima un po' perché ovviamente alcune colture permanenti sono sottostimate o sovrastimate a seconda rispetto al noccioletto e al vigneto tanto per dire il vigneto una delle azioni se non mi ricordo di inervimento che fa variare probabilmente di non poco scusa se mi posso servire perché tutto questo panorama di carte è servito all'autorità di gestione del sviluppo rurale perché in primis la parte del harmonio organico discrimina tra chi può aderire all'avventura del ammigliamento con questo organico oppure no quindi questa parte qua sovrapposta a livello particellare con l'anagro servicola accende in automatico particelle distribuibili e particelle non distribuibili quindi il referente della prefura che si trova mezzo milione di domande sa già su quali particelle queste possono essere accettate topsoil ma se se normalizzare il 0 tempo vedete se ho fatto uno splung esatto quindi questa è la prima di segnalare invece l'impotenziale di accumulo di capone organico è servito all'autorità di gestione invece a capire come orientare certe misure per massimizzare l'effetto della misura stessa cioè in sostanza per cui ci vai no partecipo e invece la capacità è risentata questo è un problema però diciamo che i agricoltori che hanno un mese più di altro vanno dall'associazione di pentagogia e dicono come pigliare dei soldi allora tu qua per ogni organica non lo puoi fare qualche l'altro poi come diceva giustamente ieri Igor diceva anche Fabio prima lavorando su mandato regionale a un certo punto lavorando sui servizi ecosistemici la regione aveva già fatto un esperimento sull'assistimento politico di Torino di mettere un modello a disposizione dei comuni per il calcolo del carbon stock carbon loss derivato dal modello di investire dell'università di Stanford che ha tutta una serie dentro di modelli tra cui uno con cui abbiamo lavorato anche con Maurizio sulla parte degli apriari quindi sull'acropordination e uno dei modelli è quello della capacità di calcolo di carbon stock ed eventualmente anche avendo una multitemporalità che è basata convenzialmente sull'encover di calcolare la capacità di aumento riduzione in quel singola cella e questo lavora solo raster di capacità di storia di carbonio prende in considerazione sostanzialmente una tabella dopo l'entrata quindi le quattro matrici che sono carbonio ipogeo carbonio ipogeo il carbonio nei suoli e di necromassa diviso a seconda appunto delle varie categorie di link over land use che si vogliono inserire è ovvio che più si inseriscono categorie di use in cover quindi si esatto nel fine più bisogna avere dati ideografici o analitici delle quattro matrici che non è proprio uno scherzo mentre sulle foreste per dire le grandi esperienze che ha la fortuna di avere l'ipo avendo fatto potevamo dividere ancora di più ovviamente sulle altre era praticamente impossibile si si il problema è da una parte quello dall'altra è la qualità del dato di uso del suolo siccome il multitemporale che noi avevamo con il link over che non distingue molto difficilmente al primo o secondo livello al quarto distingue tra carrucifoglie e di soglie permanenti abbiamo per il momento riduto tutto insieme nello specifico per il servizio ecosistemici urbani poi abbiamo inserito non solo il massolico urbano puro ma anche quello che sono odore che potrebbero essere quelle zone grigie che sono in contesto urbano come parchi parchetti eccetera dove ovviamente si è considerato solo il carbonio nei suoli e non nel soprassuolo perché tendenzialmente lì potrebbe esserci dall'erba a patroalberi al mattoncino forato eccetera questo ha permesso quelle sono due carte differenziali di vedere dove col giallo sostanzialmente non c'è capacità di scambio di carbonio inteso né come ritezione né come rilascio per taglio o cambio di destinazione d'uso i rossi e arancioni invece sono quelli in negativo cioè dove lì c'è stato un intervento che ha fatto perdere la capacità di scambio di carbonio in blu dove c'è invece un guadagno potenziale dico potenziale perché ovviamente i rossi tendenzialmente si vedono bene sulle fasce fluviali dove sono stati tagliati più pelli tanto per dirne una e viceversa il blu c'è stato un cambiamento ad esempio da magari inerbimento da agricolo inerbimento e questo si vede ad esempio se vedete il carbonio da bo da permanent crop a grassland varia ma soprattutto il carbonio di suoli varia tantissimo quindi quelle variazioni vengono considerate dal sistema dal modello come variazioni in positivo ovviamente quelli sono dati nell'alteretta roana una cosa che dice che è stato detto anche prima che sottostima ad esempio l'accrescimento vegetativo c'è un modello lineare il modello di crescimento sempre è una lineare ma una curva che tende a crescere subito tanto che poi si effettisce questo è un problema del modello è un modello che però in realtà è un modello open source anche questo cioè ci sono i sorgenti disponibili a tutti quindi volendo uno lo può prendere modificare e utilizzare al volo sempre in quest'ottica invece abbiamo poi fatto la carta di incremento potenziale prendendo in considerazione i valori medi di stock di carbonio per l'end use and cover utilizzando i dati analitici e qui c'è quel discorso che si faceva prima con Fabio cioè per ogni tipo forestale anzi categoria scusate c'è un'indicazione ben precisa di qual è la media di capacità di stock di carbonio questo è nel suolo o nel suolo sì sì nel suolo questo nel suolo topsoil sempre è sempre topsoil divisi in questo caso in sei uno due tre quattro cinque sei sette scusate sette macro categorie che sono l'azzurra che sono sostanzialmente le le praterie dieci spugliette cioè quelle che hanno una capacità molto alta di come uso del suolo di immagazzinamento nel suolo nel suolo di carbonio una prima parte forestale che sostanzialmente sono quelle a minor rotazione o comunque quelle più stabili sotto una seconda parte invece che sono quelle meno stabili come foreste si deve dire che c'è vedete quella striscia nera che non si legge è la media è la media è la media per cui tutto quello che è sopra ha un potenziale di incremento maggiore si fa un cambio d'uso si fa qualcosa che ha un'azurrino verde questo è l'incremento potenziale fatto homemade diciamo però in Piemonte effettivamente sono quelle però è ovvio che a rovigneto che ha un utilizzo come dire di un certo tipo anche dal punto di vista tropico rispetto a un pioppeto un seminativo un incolto è ovviamente inferiore rispetto a una betina che nasce e muore è pioppetto come una cultura agraria si infatti è trattato come tendenzialmente è trattato come cultura agraria perché di fondo è come vedete ad esempio i vigneti sono in questo fase sono molto molto bassi i vigneti a meno che non ci siano le operazioni di derby vento o attività simile quindi in questa di storicamente adesso sta cambiando sta cambiando 20 anni fa al 100% lavorare la competenza e anche anche aggiornato no 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 adesso l'inambimento sta diventando la pratica decisamente tendenzialmente ovviamente queste n categorie sono state ridotte in quelle 7 come dicevamo e poi a loro volta in 3 con un potenziale incremento alto medio e basso stessa cosa è stata fatta sul potenziale incremento del carbone nel suolo tenendo conto della profondità della pietrosità e del pedoclima il volume in realtà poi abbiamo fatto una tabella d'opentrata che non do conto del pedoclima da una parte ma del volume stesso come profondità utile percentuale di scheletro dato di nuovo quella tabella quindi alto alto dato alto medio lo vedete lì comunque c'è anche poi la carta c'è il decime odometido e il decime tenometido come riparato sì perché più di te sono i percancide su un rapporto ad omiazzolo di mineralizzazione quindi abbiamo usato questo criterio per stimare il potenziale incremento di carbone legato alla componente pedologica quindi poi di fatto adesso Federico lo fa a vedere ci sono tre carte una di incremento potenziale solo da uso uno pedologico e poi la sola delle due e poi abbiamo fatto una tabella doppia entrata mettendo insieme a erito degli altri e in quel punto è la carta di incremento potenziale di soli che viene usata da coletta per PSR e questa è la carta risultante dell'insieme delle due carte di incremento potenziale da suolo o da sovrasuolo messa insieme con quella tabella che non è molto banale non c'è molto da dire no beh si vede che banale nel senso che non c'è come dire si vede che ci sono suoli allora da una parte c'è ovviamente il numero che incide quindi adesso bisogna vedere un attimo credo che siamo tutti gli arancioni sono su zona seminativo credo si seminativo si ad esempio questo è il seminativo dell'Alessandrino esatto queste sono le zone del Saluzese con questa è Carmagnola questo è Saluzese e poi c'è le parti di bassa no Risaia è alto questo e poi vabbè e poi ovviamente c'è una zona di alta montagna dove sono ovviamente non c'è su oro molto scaso dovrebbe aver finito sì grazie grazie spero di sì è la stessa cosa che abbiamo fatto su su tutto il Piemonte col modello il riso abbiamo fatto anche sulla provincia di Novara facendo un esperimento che non ha funzionato lo dico già che quello no perché c'è chiesto la regione ma lì è un problema di dato di andare ad analizzare i piani regolatori comunali per vedere se effettivamente le previsioni regolatrici dei piani regolatori quanto potrebbero incidere sul carbonio in fatti di cambio di uso del suolo perché ad esempio in provincia di Novara in particolare nella zona ovest qua era stata fatta una previsione di urbanizzazione per un magazzino di logistica cosa che poi è stata fatta ed è risultato effettivamente se andiamo a vedere questo che è un carbon carbon loss importante però non è da partito così nel senso che le previsioni sono previsioni poi non è detto che si realizzino meno però è chiaro che oggi che c'è un'intera del consumo di suolo e il carbon loss il carbon stock a seconda qualcuno incomincia a porsi il problema poi la regione vuole arrivare a vedere il parcheggio di supermercato che forse è un po' eccessivo però su zone ampie come questa si vede se effettivamente quelle previsioni urbanistiche hanno avuto un impatto perché poi il problema qual è stato che gli urbanisti vedono tutto quello che non è urbano come o agricolo se va bene no se non va bene diciamo se va bene qualche volta ci mettono anche le foreste ma quasi mai le foreste cioè la foresta è trattata come agricolo e anche nelle aree naturali molti non le considerano naturali ma agricolo quindi lì c'è un'ulteriore semplificazione del modello perché è tutto agricolo quello che non è urbano è tutto agricolo quindi quella perdita la può essere sovrastimata o addirittura sottostimata se vi dite che c'è un bosco però io non lo so se c'è un bosco perché il piano regolatore non me lo dice mi dice era agricola dovrei fare un'utero e dovrei andare a prendere l'incorso e andare a fare un'analisi sull'incorso dell'incorso specifico c'è un prato allora io un secondo solo la domanda la domanda era per lui allora dunque io non voglio fare come ricercatore l'avvocato del diavolo diciamo in questo senso però si fa la domanda sul discorso allora in tutte queste valutazioni sia quella dell'O2 Sigma anche quella nazionale piuttosto che anche questa è molto interessante c'è il problema che dalle aree sperimentali noi abbiamo visto dell'andamento del carbonio di distocco del carbonio nel suolo le aree sperimentali di non ferme che ci sono che abbiamo anche a crea ci dicono che nel medio lungo termine anche con lo stesso tipo di gestione ci sono variazioni di carbonio statisticamente significative allora il problema della data dell'incoerenza delle date che uno mette dentro nelle spazializzazioni regionale nazionale è un problema grosso che bisogna in qualche modo risolvere nel senso se io metto dentro i profili diciamo che vanno dal 90 al 2020 al 2020 ci stanno dentro 10-15 anni e di fatto io non ho la sicurezza che questi 10-15 anni sia cambiato perché sono dei tempi comparabili col discorso che lo vediamo nelle sperimentazioni di lungo termine quindi ci sono variazioni sopra i 3-5 anni ci possono essere variazioni come gestire questa cosa i metodi di digital soil mapping usati normalmente hanno dei sistemi di validazione interna dentro splittando il dataset il dataset è lo stesso con il gap temporale quindi uno fa una valutazione interna con lo stesso dataset quindi per bypassare questo discorso verga al dunque ci vorrebbero dei diciamo dei dataset di validazione a griglia indipendenti che sono possibilmente in date odierne che danno la possibilità di confrontare diciamo il dato quanto ci becca il dato e il modello costruito su quel dato quanto effettivamente ci becca su questa cosa perché riferimento la cera statistica del digitazionamento funziona così siamo tutti ci arriva un dataset lo split e uno fa il training uno fa la valutazione ma è sempre lo stesso dataset sostanzialmente ma è una cosa diciamo la vera validazione vorrebbe in teoria un dataset indipendente che non è quello con cui è stata costruita diciamo proprio perché c'è questo problema della data questo è un problema e noi se espandiamo un discorso a livello della data nazionale a maggior ragione ora la mappa della fauna cioè è una cosa interessante però per i fili politici è l'Italia è il francobollino nel mondo va a finire dentro una carta è il mondo che viene usata alle tanti del sesso per sforzi politici quindi è più il farla per esserci diciamo a certe però non è una mappa che è la fauna cipianifica e il mondo cipianifica si si pianifica si per i paesi di sviluppo probabilmente cipianifica ma per l'Italia all'Europa quindi voglio dire da quel punto di vista è inizio però se uno andrebbe usare uno strumento a livello regionale di pianificazione allora Rosario per risponderti noi non siamo non siamo allora adesso potremmo fare dei ragionamenti globali sul cambiamento di carbonio su tutta la regione però noi abbiamo un database con i dati temporali quindi per esempio per i vigneti e il discorso dell'enerbimento che faceva Nicoletta siamo in grado l'abbiamo fatto adesso avete visto per esempio i dati dei vigneti quella lì era diciamo pre applicazioni di inervimento quindi un percento però i dati successivi che non abbiamo questa tabella non è aggiornata solo per i vigneti perché avrebbero dovuto fare un aggiornamento globale che hanno potuto fare ci dicono che è aumentato quindi noi siamo in grado di andare a prendere le analisi e le date in cui sono state fatte le analisi e cercare almeno per certe zone per certi usi di vedere qual è stato l'implemento quindi non si può fare forse a livello regionale però a livello e poi ci sono i dati dell'agrochimico che dicevi tu Nicoletta prego i dati che parlava Simona ieri che sono i dati degli 030 con la loro data di consegna eccetera eccetera no io volevo aggiungere una cosa non è tanto una pianificazione quanto un orientamento alla pianificazione quello che ci chiede la regione perché le misure sono ad adesione volontaria la commissione ci dice misure agroambientali teoricamente tutti i richiedenti devono avere diritto a ricevere a poter aderire se hanno i requisiti la coperta è corta quindi tutti non si possono accontentare la regione deve stabilire o delle priorità o dei sì no quindi in realtà se poi andiamo a permettere a uno di aggiungere un po' di compost nella sua partenza quando in realtà non era proprio così elegibile non facciamo un grosso danno semplicemente loro hanno bisogno di strumenti immediati perché tra un mese apro il bando io ho bisogno di un punto di riferimento che adotto con DGR e dico la regola è questa 5 punti ai marroni 4 punti al beige e così via e quindi abbiamo finanziamenti fin tanto che abbiamo soldi e scaliamo la graduatoria quindi anche se non abbiamo una carta che ci acchiappa a livello di particella in modo preciso l'importante è che il legislatore abbia un termine di riferimento da poter adottare per stabilire dei criteri di priorità ecco questo è un po' il succo della questione meglio che niente io lo voglio tutto subito ecco lo voglio subito lo voglio esteso su qualsiasi particella che mi passa la mano e lei deve rinunciare il problema che mi cosa succede in questo comunque volevo dire una cosa che ha messo a quello di Sce Rosario perché allora io vi ho presentato le due carte quella del 2010 e quella successiva no? quella del 2010 in realtà aveva degli aspetti possessivi perché lì c'era un'analisi temporale nell'altra non c'era e sul discorso dell'analisi temporale una cosa molto importante che abbiamo fatto su tutto della carta lì è che abbiamo indicato per ogni punto a terra ogni punto usato poi nel modello sia l'uso del suolo cioè soprattutto l'uso del suolo quello relativo al momento in cui è stato prelevato il campione cioè quello vero non quello perché nel digital social mapping che succede che spesso si prendono degli strati di una certa data qualsiasi e gli si attribuiscono ai punti no? e questo genera degli errori cioè perché non rimetti il vero uso di cera ma quello che ti dà la carta ecco questo genere è la relazione no 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 però fanno finire e questo è molto importante perché in realtà la difficoltà sommata fa dei modelli dei modelli quello che tu atti no? tu lo atti sul punto e poi lo atti sul territorio quindi praticamente se tu se tu nel punto gli dai il valore vero sia come il clima il clima diventato lì sia come uso o gestione se scelari il risultato poi del modello è assolutamente migliore sì però la domanda è ad avercelo la domanda è di fondo è concettualmente giusto spazializzare date così lontane per sapendo che quella variabile in quell'arco temporale ha può avere delle variazioni statisticamente signifertine questo è tutto quello che ti lo serve faccio sempre un esempio è come se l'algoritmo ti non sente di spazializzare è come se te ricostruisci la fotografia di Rosario Napoli con la faccia diventa il busto diventa il numero 30 e le gambe diventano 60 e il modello le ricostruisce ma chiaramente lo sapete ricostruisce perché il modello spazializza delle relazioni spaziali tra un punto preso nel 90 e il punto di là che è preso nel 2010 sono passati 10 anni e questo ricostruisce un modello tra questi due punti in teoria considerando i coefi capito? spazialmente spazialmente le considerano spazialmente però idealmente anche nella ricerca vorremmo avere tutti i dati possibili la cosa migliore non è corretto però tu quando devi dare un risultato a un ente che deve pianificare oppure che deve avere una base di dati per risolvere certi problemi tu devi regolare quei dati che hai e quindi alla fine secondo me è meglio una buona specializzazione un buon metodo un po' approssimativo però sai che hai usato dei dati di portenza buoni perché li ho prodotti io vai a delle approssimazioni perché conosci piuttosto che andare così e mettere dei dati in caso perché alla fine tu gli devi dare un risultato che ha un senso quindi loro conoscono benissimo il territorio quindi va benissimo in teoria avere ogni anno in questi due giorni abbiamo messo al punto e abbiamo tutti mostrato per le tecniche con cui possiamo risolvere questo problema perché l'aggiornamento modellistico dei modelli modellisticamente mi permetto solo di fare il video due ragionamenti la possibilità di aggiornare con la modellistica opportunamente tarata e calibrata comandante di aggiornare e portare i dati all'oggi portare dati all'oggi portare dati all'oggi spazializzati mi permetto solo di fare un ragionamento di questo tipo una cosa da dire io parto come diceva Zimbia da dei dati certi di uso del suolo per cui io faccio un'analisi dicendo se io devo dire il mio pianificatore devo fare che ne so cosa faccio un bosco un prato una cultura un capannone da qui ai prossimi x anni poi non so se lo farò mai allora se io parto da dei dati più o meno certi dico più o meno certi che sono dati storici di uso del suolo ti dico i dati storici mi dicono che oggi io faccio una scelta oculata se ci metto un bosco probabilmente però quella roba lì la devo lasciare almeno 12 anni se no non cammino stiamo parlando e la spazializzazione che fai oggi sul dato di un profilo fatto dal 2000 ma che c'era 13 è il dato che è certo io ti contesto il concetto di certo perché te oggi nel 2000 quando la armola c'è in quel suolo no devo riuscire in questo caso dovresti fare ma no dovresti fare il punto per il punto per il punto per il punto no scusa ma proprio perché ma no perché proprio perché pianifici io faccio il ricercatore per farvi permettermi più ma io allora parliamo parliamo se pianifici aspetta perché questo discorso va chiarito se pianifici io ho degli esempi vi porto in caso l'esperienza personale sono stato nominato da CREA ok validatore del consiglio di stato validatore di 15 convenziosi della regione Puglia sulle misure per le aziende agricole sono entrate in contenzione sulla 10 che stock di ragione non è più perché la regione è andata a verificare e sono venuti dei dati oltrastanti da quello che diceva l'azienda e quello che diceva la regione stanno vincendo tutte le aziende queste contenzioni perché perché la regione ha usato dei dati nel 2010 quindi va oggi dice oggi e dimostra con l'analisi ufficiale che ha fatto la rivolcella che non c'è temer risortatato in classifica gradatoria di contributi ma in basso perché ha detto che c'erano poi c'è anche un problema di punti e di controllo spaziale però il grosso del fatto che le aziende vincono intenziosi con le regioni è proprio in questo motivo la regione dice ti metto gradatoria bassa perché nel mio dato vese risulta e c'è il 0,77 però il dato fa dice no ma io c'ho un e due e ero 4 ieri il giudice dice no qui aspetta e chiaramente questa cosa è un problema ma infatti il lavoro va fatto cioè il lavoro di PSR che abbiamo fatto ci si distribuisce i contributi e si fa è proprio andare a vedere se le misure adottate non dalla sola azienda ma a livello regionale hanno avuto un risultato aspettato no perché è chiaro che io oggi io posso oggi fare una pianificazione e dire l'inerbimento dei vigneti mi risolverà tutti i problemi vado a fine campagna al PSR faccio le misure e non è cambiato niente allora non serviva sta roba però ci abbiamo provato cioè voglio dire era un tentativo da quel punto di vista voglio dire bisogna stare attenti perché quando te le luci i episcopi i politici accortano ma quando ci vai a distribuire soldi su queste misure e a tizio gli dai soldi perché ha fatto certi incrementi e a caio e questo quello ti espone è sentato con la se poi sinceramente non è quello che lo fa scendere per un'ora e fa un'analisi sua con rispetto prima dove ognuno prendeva 10 e fine ed è quello che ha contestato credo l'Europa credo proprio la Puglia e non solo la soluzione modernistica che abbiamo buttato in Capitanale sicuramente è migliorativa perché ti consente di dire ciò basta per un modello magari non è variato per niente poi vi faccio un esempio solo per dire cosa fa l'esperienza di chi è sul campo questo era diciamo allora quello che vedete sono seminativi diciamo seminazioni di vigneti tendenzialmente questo era il dato del 2010 ed era molto basso perché era nella prima classe questo è il dato elaborato medio col metodo CNR ed è rimasto comunque basso solo in alcune zone ma poi andando a vedere e facendolo si è alzato tutto perché lì ci sono zone di vigneto quindi abbiamo aumentato perché sapendo che le zone di vigneto hanno una capacità per finire di dire una cosa rosaria no vabbè ma lui è giusto quando ci sono a noi è stato affidato ad esempio il compito di andare a verificare l'effettiva monticazione di 110 mila non so quanti mila capi 120 mila capi di bovini perché a un certo punto cosa succedeva che davano a pioggia e c'era gente che non aveva neanche una bestia è chiaro che lì quando sono incominciato a chiudere i rubinetti bisogna poi fare i controlli però non è che possiamo controllare mille mandrie ogni anno e ci si mangia un po' però si è incominciato a vedere dove c'erano le differenze qui lo stesso cioè se io oggi ho un modello lo applico io non sono un ma poi io mi ricordo 25 anni fa cioè 25 anni fa una presentazione a Trento un modello che si diceva con questo modello vi diciamo come cambierà la città e poi non tenete conto di fattori economici eccetera cioè è un modello che poi si può affinare va bene va bene direi che Massimo solo potremmo chiudere direi che possiamo chiudere abbiamo risolto tutti i problemi di questi due giorni mi farebbe piacere ringraziare ufficialmente insomma i colleghi dell'Ivla che ci hanno accolto veramente con grande cordialità e di avere messo a disposizione la loro sede bellissima complimenti ma anche la loro professionalità da cui trarremo sicuramente grandi insomma insegnamenti quindi questo è il mio cellulare già iniziano appena non ho ancora finito e già iniziano a chiamarmi e quindi davvero vi ringrazio faremo e faremo la parte grazie a voi noi abbiamo ritirato fuori quello che ha avanzato ieri chi vuole rubare un manino un traghersino un po' freddo di frigo grazie a tutti il percorso prossimo sì però proprio sul discorso di di ci interessava però vedete anche ciao ciao Samantha saluti a tutti grazie ciao Samantha ciao Andrea alla Paola Torocco scriveva una cosa si, adesso si poteva fare gli aerobani non so cosa la domanda era ciao Paolo nell'aero urbano se penso al nostro lavoro si con i limiti del modello con i limiti del modello si può fare però il problema è che il modello ha dei limiti anche dimensionali e anche perché quando mi chiedono se io faccio costruire tre villette tutto quello che c'è e anche quanto può guadagnare una foresta urbana boh perché poi c'è anche la morienza delle piante viene pianto 100 non so se ti rischia di 200 quindi si ha un po' di limiti saluto no certo grazie a tutti